benvenuti benvenuti grazie di essere qua nonostante l'acqua alta che ormai ci accompagna da dieci giorni forse di più e anzi pregherei forse il nostro tecnico di togliere dal schermo questo programma e partire con un po di acqua alta questo è palazzo franchetti e ci sono quello che noi vedevamo da palazzo franchetti e anzitutto grazie per essere venuti cominciamo un po più tardi purtroppo la stagione i tempi hanno reso difficile alcuni di noi di essere qua soprattutto giovani e quindi l'idea di fare questo incontro in questa grande sala è superata dagli eventi climatici avremmo forse fatto meglio essere in palazzo loredana ma comunque qua nessuno ci caccia via a me tocca l'apertura dei lavori di solito l'apertura dei lavori sempre da parte mia cosa molto rapida in questo caso mi permetterei di rubarvi 10 anzi 12 minuti 12 minuti perché vorrei dire qualcosa prima di iniziare il lavori veri e propri dando la parola a quanti sono impegnati in vere relazioni e direi che potrebbe sembrare quasi un appuntamento non voluto quello per il quale i nostri lavori cadono in giorni e tempi nei quali si misura l'antico forte quasi simbiotico rapporto che lega questa città e la sua storia al mare la pesante alluvione che in questi giorni ha colpito con durezza venezia ci ha proposto l'aspetto più rischioso di quel rapporto che si è trovato a scontare l'insipienza di autorità locali e nazionali non all'altezza dei problemi che sono noti e crescenti i problemi che la città e la sua salvaguardia propongono il mare presentatosi col volto nemico come abbiamo visto non deve farci peraltro dimenticare quanto col suo volto amico abbia sostenuto a lungo le fortune di venezia e dello stato che lei faceva capo ma per entrare nel merito dei nostri attuali programmi vorrei partire pregherei di permettermelo da una nota personale che mi è cara perché ricorda un amico scomparso da non molto david jacobi si era ad un altro convegno organizzato qui in venezia nel 2015 ragionavamo di rapporti mediterranei pratiche documentarie con riferimento alle reti economiche culturali tra 400 e 600 nel corso delle discussioni in riferimento alla statualità lagunare mi capitò di alludere ad una bizantinità veneziana prima integrata poi parallela infine superstite rispetto a quella greca più tardi parlando in libertà con lui durante le pause dei lavori jacobi poco convinto da quella sorta di formula mi diceva scontatamente come venezia fosse stata suddita di bisanzio e quindi parte di quell'impero e io gli precisavo che qualcosa di quella bizantinità ma molto poco che fosse rimaneva tale per venezia come una sorta di originario imprinting anche quando ormai venezia la sua civiltà erano morte e sepolte era rimasto un po sospettoso e poi come era solito fare lasciava capire che ci avrebbe pensato non siamo poi tornati sull'argomento non abbiamo più avuto occasione e ancora me ne dispiace anche se poca cosa rispetto all'aver perso un amico ma mi rendo conto come quella formula che mi sembrava e tuttora mi sembra ben adattabile alle peculiarità locali meriti qualche giustificazione e vorrei accennarne in questa sede perché la sua originaria matrice mi sembra legata proprio al senso e al ruolo che il mare ha avuto per la realtà veneziana e la sua statualità dell'ascito antico di bisanzio lo stato lagunare non volle ne poter mai liberarsi fino agli estremi momenti del suo esistere fino all'ultimo dei suoi giorni il suo principe fu sempre un doge segnato dal titolo ducale dux che dall'ottavo secolo marcava la dipendenza da bisanzio non lo si confonda naturalmente con i duchi longovardi così quando quell'ultimo dei dogi lodovico manin nella cerimonia di incoronazione fece in piazza san marco il solito giro in pozzetto cioè sul pulpito portantina il pozzetto recato a spalla dagli arsenalotti gettando denaro alla folla replicava ancora il rituale documentato almeno a partire dal dodicesimo secolo alla cui base stava l'antica tradizione bizantina mutuata dagli usi romani con l'elevazione sugli scudi con il trasporto a braccia del nuovo eletto quando poi il 4 giugno del 1797 davanti all'albero della libertà che segnava la fine della repubblica furono messi a ruogo i simboli del tramontato regime c'era anche il corno ducale che si ricollegava lo schiadion portato dai dignitari bizantini come il protospatario titolo che peraltro era stato conferito anche al doge o forse addirittura al camaranchion in usa costantinopoli per la famiglia imperiale dall'inizio del nono secolo sono certamente residui di realtà tramontate che per altre segnano una straordinaria continuità e in altre occasioni ci si è riferiti ad un bizantinismo veneziano ma sostanzialmente in modo riduttivo con riferimento a specifiche congiunture o eventi per esempio nel 61 1961 cessi intitolò un suo saggio al bizantinismo veneziano ma in una prospettiva strettamente mirata ad un uso specifico notarile in proposito peraltro conviene piuttosto ricordare come per la datazione dei documenti venezia ricorrerà ancora per secoli ben dopo la morte di bisanzio alla indizione secondo l'uso greco bizantino sono minimi segnali che indicano una proiezione lagunare per molti aspetti volta piuttosto verso oriente e il che alla penisola italica si tratta di una proiezione verificabile ogni volta che oggi ci si confronta con le varie forme organizzative e istituzionali dei principali stati di antico regime della nostra penisola con una indubbia difficoltà nei tentativi di comparazione del sistema lagunare marciano con quelli di terra feva ci si misura con modelli di statualità decisamente non comparabili e vengono in mente le peculiarità che già ci suggeriva petrarca quando a prescindere dalla raffinata ma scontata retorica per cui poteva indicare venezia come civitas miraculosissima urbe maxima si trovava poi a definirla con altri presupposti come orbem alterum o alter venezia in questo mondo particolare c'è la contemporanea limpida percezione di una specificità incomparabile rispetto a quella del mondo terrafermiero nella linea che del resto aveva portato già a buon compagno da signa nel libro di obsidione anconi siamo attorno al 1220 a indicare il daugado come regnum acquosum regno d'acqua fu certamente la proiezione marittima che segnò la vicenda veneziana basti pensare ad una mappa delle più o meno organizzate presenze veneziane fuori dal dogado le stazioni le colonie gli insediamenti in qualche forma strutturati hanno diretto rapporto col mare nella logica di un processo evolutivo fortemente orientato a bisanzio oltremare con decisioni in qualche caso tanto risalenti quanto ricche di significato per esempio si pensi alla sostanziale assenza sulla costa occidentale dell'adriatico di stabili centri veneziani decisamente nulla se non per modeste e rapide congiunture si guardava e si puntava altrove lo spiega il rapporto con comacchio l'altra possibile venezia delle origini la vera alternativa ma nel regno italico e fuori dai confini del ducato del ducato bizantino due centri dalle identiche e enormi potenzialità e prospettive venezia in cresita ci mise un secolo e mezzo prima di spegnerne la concorrenza e distruggerla come fu nel 932 quando trasformò la grande antagonista in un rudere mettendola a fuoco e ferro ammazzando negli abitanti deportando tutti i superstiti in laguna in servitù ma si guardò bene dal prendere possesso dei luoghi sui quali aveva trionfato sarebbe stata cosa piuttosto normale dati i tempi ma venezia non lo tentò nemmeno nonostante la felice posizione di comacchio alle foci del po e la risposta è semplice la proiezione veneziana era sì sul mare ma verso oriente in un funzionale prospettiva mirata a bisanzi e poco importava la terra fermitalica e quanto alla sponda occidentale dell'adriatico per lei la necessità era quella di coprirsi le spalle si trattava di una sorta di deciso strabismo divergente che impegnava con forza verso l'aria orientale piuttosto che verso occidente per cui del resto le rotte dell'uscita dal golfo seguivano le coste balcaniche di tradizione costantinopolitana piuttosto che quelli tali ma l'oriente per venezia era ripeto la fase genetica la permanenza nell'impero romano bizantino le straneità rispetto alle invasioni che avevano trovolto la romanità occidentale in quella prospettiva era nata e cresciuta la peculiare realtà di laguna sempre meno sotto tutela sempre più autonoma fino a farsi signora dell'antica capitale costantinopoli e certamente parlava latino non greco e scontava quanto d'altro ancora distingueva l'oriente rispetto all'occidente ma nonostante tutto quell'imprinting di cui avevamo detto quel segno genetico quella connotazione culturale altra rispetto al più pieno quadro europeo dal forte segno barbarico ancora in qualche modo restava con una statualità assolutamente non comparabile a quella degli altri stati italici bisanzio era il punto di riferimento della cultura e della società veneziana nella sua fase genetica segnata da un autonoma e sempre più lontana bizantinità latina destinata a non avere più nemmeno memoria di se stessa ma il segno dell'antico legame all'impero bizantino restava anche dopo la sua fine e proprio in riferimento ai nostri lavori era decisivo il ruolo il senso del mare senso del mare anche il titolo di uno straordinario saggio di alberto tenente se la costa occidentale italica per le rotte degli uomini di laguna era di secondario interesse e a bari si poteva andare soltanto per impedire che persa da bisanzio diventasse una pericolosa base saracena ben altra rimaneva la prospettiva orientata alle aree di pertinenza del pur finito impero bizantino di cui la realtà lagunare che conservava i segni e per certi versi l'eredità la vocazione talassocratica proprio dello stato marciano la cui progressione ab anticuo era maturata all'insegna di coltivare il mare lascia star la terra portava naturalmente in linea con passato a quelle acque un tempo costantinopolitano oggetto della loro eredità fra 300 e 400 si è già andati ben oltre l'adriatico e lo ionio sentiti ormai è sempre più come patrimonio marciano del mare si percepiscono i rischi le paure i disastri ma la terra ferma a lungo non entra davvero nelle ossa per troppo tempo bisanzio era stata anche sul mare quel mare che non poteva essere scontata eredità di nessuno nemmeno del gran turco il mare che non ha confini diventa una sorta di categoria aperta quasi unitaria per venezia ben al di là di quel golfo di venezia che non va oltre taranto a lungo la prospettiva giunge fino a negroponte a cipro alla morea a creta sempre più lontano confesso che proprio in questi giorni pensando ai nostri lavori ho l'impressione di aver finalmente capito dopo tanto tempo l'assurdità della guerra di cambia impresa ormai implausibile senza senso incomprensibile oggi a me in primo luogo persa in partenza senza senso e quasi assurda negli equilibri del pieno seicento ma era difficile comprendere quale imprudenza potesse spingere quella che ormai era una potenza del passato come era venezia a dissanguarsi per 24 anni in una partita persa fin dall'inizio difendendo l'indifendibile mandando a morirci in creta ben 280 patrizi circa un quarto del maggior consiglio pazzia oggi credo che in qualche modo quella pazzia ammesso che fosse tale pesasse la forza o il fardello di una lontana eredità con un senso del mare sotto traccia magari stravolto ormai illogico che era entrato nel patrimonio genetico veneziano modellatosi almeno in parte dai tempi della lontana e più che defunta esperienza di bisanzio e della sua bizantinità latina era quel senso del mare che per chiudere vorrei ricordare col riferimento appunto già fatto allo splendido saggio del 1991 di alberto tenenti proprio su il senso del mare ma questo mi sono permesso perché non so come dire di solito faccio un saluto breve mi scuso aver rubato tempo la vostra attenzione e qui passo davvero agli auguri di buon lavoro dando la parola al primo degli interventi che quello di dieci prego che ci parlerà di del mare come stato grazie vado abbraccio in questa questa relazione che in qualche modo riassume il un pensiero che sto facendo da tempo in merito anche a questo tema venezia il mare e lo stato da mare io personalmente mi sono formato sullo stato da mare sono partito da da dallo studio dell'istria poi della dalmazia della dimensione adriatica poi mi sono dedicato gli studi dei balcani e adesso sto tornando a studiare venezia questa dimensione dello stato da marche ha avuto notevoli progressi per quanto riguarda la ricerca in questi ultimi decenni ma per vari motivi di cui adesso appunto vi dirò è stata sempre messa in secondo piano rispetto a quella che poi è stata a lungo per lunghi decenni dopo la seconda guerra mondiale la tematica prioritaria cioè il rapporto tra la dominante e il il dominio di di terraferma e venezia il senso del mare l'abbiamo anche pensato proprio il riferimento è stato il primo pensato a pensarlo è stato ermanno orlando sono vent'anni dalla pubblicazione del libro che raccoglie il meglio della produzione storiografica di alberto tenenti e si chiama appunto venezia il senso del mare è il titolo ripreso dal saggio appunto come diceva presidente del del 91 è un libro corposo dove veramente vediamo saggio saggio su un prisma culturale ma il libro è il prisma delle visioni di tenenti sulla sulla storia di venezia un libro estremamente importante senza senza temere di esagerare uno è uno un grande libro nella storiografia che si è dedicata a venezia anche se il come dire una miscellanea di saggi e anche questa notte fino fino tardi lo sfogliavo lo guardavo significativa è l'introduzione al volume che che appunto scrisse nel 99 alberto tenenti e che riassume lo stato dell'arte degli studi in merito alla storia di venezia e al rapporto del mare allo stato dell'arte di esatti vent'anni fa appunto nel nel 90 nel 99 l'approccio che tenenti da e quello della repubblica di venezia così come siamo ormai tutti abituati a vederla come uno stato composito ma fatto da tre parti la dominante il dominante il dominio da mar lo stato da mar e il dominio da terra di terra terra ferma e non ha dubbi in merito cioè non dà la precedenza di un di una parte sull'altra in questo riprende lo schema fissato nella sintesi da gaetano cozzi e michael neptor ma soprattutto gaetano cozzi la sintesi sulla repubblica di venezia nell'ambito della storia d'italia per la utet collana diretta da giuseppe da giuseppe galasso li quindi gaetano cozzi evidenzia questa triade la città e la il mare e la terra ferma e nei due volumi doveva essere un unico volume lo scrive nell'introduzione cozzi era stato invitato da giuseppe galasso a scrivere lui un volume da solo di circa 800 pagine di sintesi della storia della repubblica di venezia dalla fine del 300 al tramonto non è nella mia natura disse cozzi non aveva questa passione diciamo per un lavoro di sintesi e si fece anche aiutare per certi passi da michael nepton ma in quel saggio nella parte di michael nepton che fa un lungo 500 c'è proprio questa visione netta comunque dell'impostazione abbiamo la dominante abbiamo il mare e abbiamo la terra ferma siamo alla fine degli anni ottanta primi anni novanta anche come bibliografia e si vede anche la la sproporzione tra la ricchezza storiografica che riguardava la terra ferma ricordiamo che negli anni settanta erano state pubblicate le fonti le relazioni dei rettori a cui ci beppe gulino aveva partecipato a quelle iniziative era stato un grande avvenimento per la terra ferma ma c'è da dire che per l'istria veneta la dalmazia veneta tra la parte italiana e la parte croata queste relazioni erano state pubblicate molti decenni prima quindi interessante notare che sul piano delle fonti e per motivi anche di sviluppo delle storiografie nazionali contrapposte italiana e croata in sostanza è stata una un profluvio di edizioni di fonti ancora alla fine dell'ottocento quindi 70 anni rispetto alla terra ferma ma dopo il 1945 c'è una c'è una un crollo per quanto riguarda gli studi proprio sul sul mare a partire dal dal delle terre dell'adriatico insomma sottotando tornando a nepton si vede bene questa proporzione anche nella bibliografia lui dice che non ovviamente non può conoscere il croato il greco quindi si limitava a questi studi era un passo nettamente in avanti rispetto alla visione dominante fino agli anni 50 ed è quella di roberto cessi che la settimana prossima ricorderemo nel a cinque decenni dalla sua scomparsa 69 2019 roberto cessi che aveva trascorso gli anni 20 e 30 anche perché il clima era quello abbastanza ovviamente pesante a pubblicare moltissime fonti e durante la guerra situazione appunto anche a tratti drammatica si era ritirato e ha scritto la sintesi storia della repubblica di venezia quindi fino agli anni 50 e poi anche dopo e c'era questa visione di roberto cessi in cui in cui prevale venezia sulle altre parti lui racconta narra il tutta la storia di venezia ma prevale il ruolo di venezia rispetto alle altre parti il ruolo del patriziato la politica le dinamiche interne alla politica della della dominante con cozzi si va avanti e questa questo questo schema anche viene riprodotto nella storia di venezia ricchissima grande benemerita opera quella della tercani che conosciamo ora nel 99 tenenti tiene conto di queste di questa di questa divisione tra mare e terra e nella prima parte dell'introduzione al volume dice che sostanza da un punto di vista globale questo questo è il termine che usa io tradurrei globale nel senso della dell'interezza della storia di venezia sia in senso cronologico che in senso territoriale assolutamente queste parti vanno considerate alla pari certo è che il mare caratterizza una prima parte di di questa di questa storia ora per vari motivi io credo anche la divisione insomma accademica tra storia medievale la storia moderna la storia moderna che ha avuto con i con l'introduzione dei dottorati di ricerca tardi rispetto al quadro internazionale in italia cominciano nel 1984 ha avuto questa questa ulteriore conferma penso agli allievi di gaetano cozzi sia per lo studio di venezia in quanto testa del sistema sia per quanto riguarda i vari aspetti della 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 terra ferma ha avuto ulteriore diciamo sviluppo per quanto riguarda il mare le difficoltà sono rimaste credo per certi aspetti continuano ad essere a essere presenti tenenti appunto sottolinea come dire l'equilibrio tra le parti nella complessiva narrazione storica poi comunque dice ma sì il mare poi alla fine c'è la seconda parte dell'introduzione molto bella che si sofferma scivola in questo in un discorso sulla sulla capacità organizzativa del patriziato sulla capacità di passare da un incarico all'altro dovuto a un'esperienza tutta marinara succe sulla capacità il l'impegno che il patriziato aveva a trovare la ciurma a organizzare ogni aspetto della navigazione quindi come dire è un tirocinio che il patriziato aveva a bordo delle navi nel mare che poi più che una formazione universitaria permetteva questa elitta questo patriziato poi di agire in modo opportuno da un luogo al da un luogo da un luogo all'altro ora il mare credo come dimensione politica identitaria di stato di essenza di venezia deve essere ancora una volta considerato in merito appunto anch'io riflettuto in merito c'è da prendere in considerazione l'assurda guerra di candia e e di recente anzi quest'anno il convegno su su morosini ha evidenziato quanto il mare contasse per venezia anche in un'epoca dove diciamo la vulgata ci ci racconta di un patriziato ormai interessato solo a investimenti fondiari nella terra ferma alle ville e quindi come dire un patriziato è ormai passivo in verità sia la guerra di candia sia la spedizione del morosini in morea e anche in attica ha evidenziato una un attaccamento ideologico al mare a me a me viene da pensare e intanto lo dico che il mare sia parte essenziale dell'ideologia di venezia ecco abbiamo tantissimi studi ma quale fosse l'ideologia della repubblica forse ancora dobbiamo credo che sia noto ma allo stesso tempo dobbiamo ancora riflettere la presenza di nettuno nei dipinti accanto a questa signora bionda con i capelli raccolti che è venezia la che ha l'epiteto soprattutto nei nei libri di storia nella storiografia pubblica regina dell'adriatico quindi è una donna è una regina è una regina di un mare e vediamo dal cinquecento e poi vediamo molto bene nel settecento nei dipinti di tiepolo questo uomo anziano muscoloso che versa da un sacco grosse monete d'oro e nettuno spesso c'è anche mercurio e spesso c'è anche marte nel nel palazzo ducale questi sono i miti fonda fonda i miti che fondano l'ideologia di venezia che che è attaccata al mare fino 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 alla fine in sostanza ora gli studi sul mare vediamo un po come lo sviluppo storiografico da cessi ad oggi ecco da notare che cessi scrive la storia della repubblica di venezia è un libro senza note scritto abbastanza quasi di getto è il risultato di una lunga riflessione di un lungo lavoro negli archivi lo scrive tra il 42 e il 44 e in contemporanea lavora letteralmente un po su questa sintesi un po sul libro che aveva già scritto nel 44 e l'ho trovato dati lo scritto a padova ma è pubblicato nel 53 credo venezia la repubblica di venezia è il problema adriatico in più lavora sugli scritti di paolo sarpi venezia è il problema del dell'adriatico quindi sugli scritti che paolo sarpi dedica all'adriatico quindi c'è si lavora sulla costruzione di quello che chiamo il millennio veneziano e poi c'è sì come diceva anche se stan era era di facile lettura solo per un altro c'è sì no quindi non era di facile lettura ma nell'ultimo uno degli ultimi libri che ha scritto proprio il millennio di di venezia due anni prima di morire due tre anni prima lì è leggibile e c'è dunque la visione complessiva di della storia di venezia dall'inizio che è sempre messa in relazione con il rapporto con l'adriatico ma anche in questo libro venezia il problema adriatico lui sottolinea che l'adriatico è solo un segmento di un rapporto complessivo con il mare che diremo è il mediterraneo ed è il mediterraneo orientale e il levante nell'introduzione al libro la repubblica di venezia il problema adriatico libro che esce dopo la seconda guerra mondiale dopo i trattati il diktat del 47 con cui l'italia a parigi in sostanza e viene decretata la perdita ovviamente dell'istria ma anche di trieste trieste tornerà nel 54 ma con una sovranità così ancora non definita quindi c'è si dice il il sogno di grandezza per cui l'adriatico in sostanza doveva diventare il mare il lago italiano sogno di grandezza non lo dice apertamente ma si intende fascista era destinato a fallire e non si è capito anzi si è forzato troppo come dire l'idea dell'adriatico come indispensabile per l'italia mentre l'adriatico era sì indispensabile io aggiungo anche sacro per venezia ma era solo una parte del complessivo rapporto che venezia aveva con il mare e questo mare di venezia finiva sulle sponde del levante terzo studio c'è si presenta gli scritti di paolo sarpi sul problema adriatico ed è in sostanza la risposta del consulto di paolo sarpi che da ai vertici della repubblica e spiega ci sono due verità storiche dice paolo sarpi una che c'è stato la grandezza dell'impero romano e che l'impero romano aveva non lo dice ma si capisce tutto il mediterraneo la seconda verità storica e da quando esiste venezia è la dominante del mare il mare e fa parte come dire è un possesso in sostanza di di venezia e poi sono vari altri motivi siamo negli anni in cui ugo grozio insomma svilupperà è la modernità no il diritto internazionale le acque internazionali il diritto di navigazione queste novità giungono a venezia ma venezia risponde con la propria logica la logica che venezia si sa da sempre a il suo golfo ora noi sappiamo che alidrisi parla del golfo anche prima del duecento per la prima volta viene nominato il golfo di venezia ma di fatto di fatto il golfo di venezia e lo si coglie in sarpi lo si coglie in cessi il golfo di venezia è acqua ed è la parte prolungata di venezia stessa il golfo di venezia finisce nel canale d'otranto poi ci si spiegano la graduale avanzata di questo golfo di venezia oggi il golfo di venezia da un punto di vista geografico è ridotto alla all'alto adriatico la linea bocche del po punta dell'istria punta di promontore ma c'è anche in wikipedia golfo di venezia è una è una un concetto appunto geografico ma quello storico quello del medioevo e poi nell'età moderna arriva fino al canale d'otranto ecco il golfo di venezia è la parte prolungata della città e le sponde del golfo di venezia sono parte di questo di questa entità un'entità per cui lo dico a volte in giro un un'imbarcazione veneziana quando attracca barletta finché è ancora dentro il proprio elemento finché il veneziano che sta a bordo della 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 nave è come una specie di extraterritorialità quando scende a barletta entra nel regno di napoli sembra una non è un paradosso sembra una tesi eccessiva ma grosso modo era così ecco dopo questi studi di dicessi eccessi lì si ferma fa ancora alcuni libri di sintesi poi cambia completamente interesse addirittura va a studiare la resistenza nel belunese ormai è anziano e basta dopo questi studi che mettono che aprono la questione del rapporto di venezia con il mare non abbiamo non abbiamo un seguito la situazione grosso modo è così l'italia non ha neanche più una terra al di là dell'adriatico e quindi la storiografia italiana delega agli stati come dire eredi di una situazione anche della stessa repubblica di venezia in sostanza alla jugoslavia e alla grecia lo studio dello di questi segmenti dello stato da mar e non si usa neanche il concetto così stato da mar ma elaborato già da manfroni grande storico della marineria italiana si usa questo concetto di impero o di sistema coloniale veneziano e questo avrà larga fortuna lo stesso tenenti nella presentazione del 99 parla di impero ora chi mi conosce sa quanto sono allergico a questo concetto di impero coloniale di venezia perché va beh può essere una soluzione ad effetto ma siamo lontani dalla filologia di quello che è stato effettivamente il rapporto tra venezia e il mare e questi e questi domini ora le storiografie in concreto la storiografia oggi diremo una volta si diceva storiografia jugoslava ma la jugoslavia sapete come dire unione europea in concreto la storiografia croata già studiava la dalmazia dopo il 45 si mette a studiare l'istria e poi abbiamo la storiografia greca che soprattutto dopo la seconda guerra mondiale si mette a studiare sistematicamente i domini veneziani che oggi fanno parte della della grecia per quanto riguarda la grecia sapete bene la formula è molto efficace venetocrazia riassume il punto di vista in sostanza c'è la storia greca che ha un suo precedente in bisanzio poi subentrano i veneziani dunque una fase questa fase porta a determinati aspetti ma complessivamente e sotto sotto insomma veneziani sono un corpo estraneo alla realtà culturale nazionale non uso il termine etnica greca di questa dimensione marittima che corrisponde con le isole Ionie e con 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 l'Egeo in ambito jugoslavo molto attivo e molto autorevole l'accademico storico antichista ma poi siccome dalmata di origine Gerga Novak il quale aveva trascritto anche molti documenti ha lavorato ai frari per per la colana dell'accademia jugoslava fonti veneziane eh il suo punto di vista eh che lascerà come dire un segno ancora oggi ben forte e che eh in sostanza venezia è una usurpatrice della libertà eh comunale eh in Dalmazia quindi eh c'è un libro scritto eh l'unica eh sintesi sull'Adriatico in lingua croata era serbo croata all'epoca eh l'Adriatico attraverso le lotte ed è un libro pubblicato eh primi anni sessanta ad opera di una casa editrice dell'esercito jugoslavo quello era il punto di vista eh eh jugoslavo di che cos'era la storia dell'Adriatico la storia dell'Adriatico è la storia di una lotta di una parte ed è sempre si sottolinea perenemente come mai sempre da occidente invadono la parte orientale dell'Adriatico questa tendenza che parte da Venezia è continua è continua con le aspirazioni italiane eh col trattato di Londra del 1915 è continua con l'aggressione e l'invasione italiana del 1941 come mai succede questo? non è questo in fin dei conti l'essenza della storia dell'Adriatico e quindi che cos'è l'essenza del rapporto con l'Adriatico dei popoli jugoslavi se non quello della resistenza verso una cultura che si espande e che vuole essere egemonica egemone e da lì tutta una storia di resistenze nei confronti di Venezia e i veneziani sono e soprattutto nella cultura croata Miroslav Krlej è il massimo intellettuale scritto insomma in suoi opera opera omnia raduna 50 volumi insomma il veneziano è sempre un mercante uno poco di buono uno che fa gli affari sul conto della popolazione schiavona e sul conto della Dalmazia questa impostazione sia in ambito letterario che anche in ambito storiografico a lungo va avanti e questa è la situazione che viene ribadita dopo il 1945 capite che con queste premesse è difficile sviluppare un discorso di che cos'è lo stato da mar di Venezia se dall'altra parte abbiamo un'interpretazione nazionale del dominio di Venezia poi si va avanti non si ferma non si fermano le ricerche in ambito soprattutto jugoslavo ma vale anche per la Grecia e dagli anni 70 la storia moderna meno la storia medievale la storia moderna diventa una vediamo una proliferazione di storie regionali quindi avremo una storia regionale per l'Istria un interesse per la storia regionale della Dalmazia dei singoli luoghi ma queste storie regionali servono per per legare e fare anche per capire il passato ma anche per legare queste storie specifiche al corpo narrativo nazionale in concreto quello 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 croato perché la Croazia ha praticamente tutta la costa veneziana veneta che c'era nell'Adriatico eccezione fatta per lo sbocco che la Slovenia ha ottenuto nel 1954 ha ottenuto la ex zona B quindi la costa che c'è da Capodistria Pirano e Isola e il Montenegro ha ottenuto le bocche le bocche di Qatar dunque queste sono le tre storiografie per l'Adriatico ma capite che attorno all'Adriatico cogliamo quello che è il primo sistema che Venezia costruisce poi lo allarga a Levante e dunque ogni ragionamento sul Golfo di Venezia che è il nucleo dello Stato da Mar ha questi elementi a cui si va incontro dunque una visione nazionale e una visione regionale e ovviamente negli ultimi due decenni si sa che Novak è di un'altra epoca le ricerche vanno avanti ma da quando c'è la Croazia indipendente si fanno molte ricerche anche d'archivio ma che cosa si cerca? Si cerca il contributo croato nella storia di Venezia non c'è ancora un giudizio è diventato più neutro è meno negativo rispetto a Novak ma si cerca nell'ambito della la storia militare il contributo di questi diciamo schiavoni delle varie truppe oppure nella storia marittima e basta che uno sia originario o nella fonte di una città della Dalmazia o dell'Istria che abbia un cognome Inic ed è il contributo croato alla storia di Venezia e automaticamente è una un aggiornamento della storia nazionale croata Venezia in questa impostazione è solo un pretesto è solo uno sfondo in verità in primo piano c'è la ricostruzione di una storia nazionale queste sono secondo me le difficoltà con cui con cui si misura per forza di cose la storiografia e la ricerca su Venezia e il rapporto del mare dopo cessi e qui vedo Morissa in mar a Morissa in mar dobbiamo una ventata di freschezza ed è quello studio sul commercio dei grani delle farine nell'Adriatico quello è stato il primo studio dove l'Adriatico è stato concepito come un mare sistema veramente questo diventa ed è un riferimento Filippo Bronstein l'aveva recepito e aveva scritto un articolo a propos dell'Adriatico qualche anno fa ho visto Venezia quel grande articolo ah sì l'ho scritto io non si ricordava più comunque rimane lì quell'articolo e quello studio per cui c'è con Morissa in mar si vede che l'Adriatico non è questo dalla parte italiana c'è proprio la ritirata anche se qualche riflessione molto profonda Ernesto Sestan la data in quella storia della civiltà di Venezia curata da Branca e i contributi di Sestan sono veramente di grande profondità vi ricordo un passaggio quello in cui Sestan dice la familiarità che ha il veneziano ad andare in Dalmazia nel decimo secolo perché come dice Gerardo Ortalli il sistema normativo è bizantino quindi si trova cioè le regole del gioco gli sono familiari questo è il punto allora l'Adriatico come sistema però ahimè devo dire dopo questi studi pioneristici non si è andato avanti perché le cose poi sono andate come sono andate questa divisione questa partizione della storiografia per ruoli nazionali ahimè ha il suo peso allora a che punto siamo negli ultimi vent'anni e qui sarebbe lungo numerare abbiamo molti studi molto importanti sulla politica commerciale su singole abbiamo singole monografie su singoli pezzi dello stato da mare quindi molto è stato fatto in questi ultimi anni devo andare veloce non è che faccio una rassegna di tutti i nomi ma no i progressi sono stati fatti a questo punto siamo arrivati a credo che il momento sia maturo a partire anche da questo convegno ma anche dagli altri convegni che sono stati fatti qua dove da quella triade dominante mare terra proprio in questa sede è stato promosso il concetto qui con i presenti amici di Commonwealth perché ovviamente noi che studiamo i Balcani ci viene in mente Obolensky quindi il Commonwealth bizantino ma in effetti è così anche l'altro giorno sentivo un intellettuale serbo che discuteva su se entrano o no la Serbia in Europa allora uno diceva ma noi fondiamo la nostra identità sullo stato medievale serbo sull'appartenenza al Commonwealth bizantino quindi amici sempre dei russi di Putin e terzo sull'ortodossia questa è la dimensione della cristianità del lato orientale della cristianità europea questo così in chiacchierate alla mattina ecco il Commonwealth bizantino è riconosciuto anche nelle chiacchiere tra giornalisti alla mattina alla radio e in tv io spero che il Commonwealth veneziano sia riconosciuto dalle singole parti questo è stato anche 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 l'intento dell'iniziativa le cose sono cambiate però credo che ancora c'è da da fare da approfondire c'è un passaggio un passo del libro di Elisabeth Cruzeff Pavan Venezia trionfante in cui dice che nel dodicesimo secolo i veneziani sono antipatici purtroppo anche di recente ho visto questi hater sono antipatici perché nel Levante hanno un atto si sentono superiori e lei lo dice perché perché hanno come una specie di consapevolezza di essere padroni della dimensione marittima e siccome in quel momento in quella storia in quell'epoca il controllo del mare è veramente qualcosa di forte e di eccezionale questo passaggio mi ha molto colpito un altro passaggio quello della della crescita della formazione di questa città che corre allo stesso tempo con le conquiste e le dedizioni delle singole parte dell'Adriatico e poi del Levante dopo il 1204 quindi la città cresce e diventa ciò che è la meraviglia che tutti guardiamo in parallelo con la crescita e la formazione dello Stato dello Stato da mar ecco lo Stato da mar credo vada 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 rivisto partendo da queste tesi non è e continuo a dirlo sono molto scettico su questo approccio del del di un sistema coloniale di un sistema dominante dominato io credo e se è visto dagli studi di Aymar e soprattutto dalla dallo studio su Cursola del qui presente Oliver Schmidt che tu ti sei divertito fare la micro storia ma in verità poi ha rivelato una cosa che per la venezianistica è molto più importante del gioco alla Ginzburg e che io sono stato colpito sin dalle prime tue relazioni questi e lo dico sempre questa è l'essenza dello Stato domani ma è possibile che questi contadini di Cursola siamo metà quattrocento no c'è una faida e e minacciano il il podestà guarda che andremo a cercare la giustizia sopra di te a Venezia e questo vi sembra un sistema coloniale questo vi sembra una realtà coloniale cioè dallo studio di Oliver Schmidt emerge che questa isola Cursola è come se fosse un pezzo qui di di questa città e lì a parte la vicenda interessante e intrigante lì si coglie un rapporto della periferia chiamavano periferia assolutamente integrata col centro e poi ho fatto altri carottaggi e interessi personali e di recente il caso di Sebenico che nasce come Castrum croato vabbè arrivo il dunque nel 1322 si danno a Venezia si liberano dall'oppressione dei feudotari croati vicini quelli di Bribir perché perché vogliono Venezia perché avevano questa vocazione a costruire una città Sebenico e sotto Venezia finalmente hanno il consiglio nobile che nel sistema precedente ungherese croato non c'era e quindi si crea la fotocopia di Venezia quindi imitano Venezia ciò non vuol dire che saranno filo veneziani perché come al solito capita la fazione filo ungherese e la fazione filo veneziana 1358 è tutto perso 1409 c'è una faida nuovamente interna Venezia non interviene aspetta tre anni alla fine il frutto è maturo e cade nel 1412 la fazione filo veneziana si dà in dedizione a Venezia e allora abbiamo su scala di Sebenico la riproduzione del modello di Venezia e come funziona questo modello di Venezia perché è ovvio che su scala locale il patriziato funziona come questo patriziato ha i suoi isolotti le sue le sue saline i suoi piccoli giri ma è consapevole che di fronte a Sebenico sta nell'insennatura fuori c'è il mare ma il mare è controllato da Venezia quindi viene delegata la materia del grande mare a Venezia mentre la materia locale rimane in mano al patriziato e questo patriziato partecipa a Prevesa con la propria galera e a Lepa quindi sono cose che si aprono chiudo scusate mi sono dilungato Gerardo Stali anche nell'introduzione e mi ricordo ai tempi quando era il coordinatore del mio dottorato e ha sempre sottolineato questo aspetto della continuità che lui sottolinea come bizantinità e lì per certi aspetti si avvicina a Cessi mi ricordo quell'intervento di Marino Berengo lo stato da Mar credo che i tempi sono maturi va visto nella sua interezza cronologica altrimenti scopriamo l'acqua calda perché ci sono dei precedenti e nella sua interezza geografica marittima grazie 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 per questa relazione che ci accompagna su tempi lunghi di storia della storiografia e di storia anche di problemi più generali ci sarà spero tempo anche per discuterne avviso che non c'è una pausa ma chi avesse bisogno di un caffè o di prendere fiato nella saletta qua vicino trova un caffè qualche cosa che possa ristorarlo in qualsiasi momento procediamo con i nostri lavori grazie Giglio ora Oliver Schmid c'è almeno per una persona non la possibilità di uscire è sempre il relatore anche se ha bisogno di un caffè allora dopo queste due magistrali lezioni introduttive che ci hanno familiarizzati anche con la pizzantinità di Venezia e anche con tutto l'impatto anche del passato recente sulla produzione storiografica io vorrei introdurre un concetto piuttosto di tipo spaziale ma prima di tutto vorrei riferirmi anche a qualche osservazione fatta soprattutto da Egidio Ivitic bisogna davvero sottolineare quello che è successo negli ultimi diciamo 15 anni e l'Istituto Veneto ha giocato un ruolo molto importante e sono molto contento che abbiamo potuto farlo anche in collaborazione con l'Accademia Austriaca e io sto parlando anche del fatto che la Dalmazia è tornata nel dibattito scientifico e non parlo della Dalmazia rappresentata da Duprovnik Ragusa che è sempre stata molto presente ma proprio di questa Dalmazia veneziana e mi pare al momento credo che abbiamo possiamo adesso aspettare e non dobbiamo aspettare molto tempo la prima grande monografia di uno storico italiano in lingua italiana sulla Dalmazia quattrocentesca che è stato nell'Ottocento un oggetto classico anche di tutto in dibattito io sto parlando della grande monografia di Ermano Orlando su Spalato che sicuramente non soltanto nel contesto italiano ma in un contesto diciamo atriatico anche europeo avrà un un impatto molto importante gli archivi in Dalmazia e soprattutto quello di Zara sicuramente uno degli archivi più ricchi non soltanto dell'atriatico ma diciamo anche in tutto tutto lo spazio mediterraneo adesso sono sono accessibili e anche gli storici non croati hanno cominciato negli ultimi anni di frequentare questi archivi e in settembre ho passato due settimane di vacanze a Cursola e sono andato anche nel nuovo nel recente archivio dell'isola che è stato recentemente aperto ma anche questo è un gioiello è un piccolo archivio d'isola con un notarile che risale al primo trecento anche con pergamene originali che sono state raccolte dalle famiglie locali allora in Dalmazia dal volta anche in comparazione e mi ricordo anche uno dei nostri conveni comuni quando abbiamo cercato anche di paragonare un po' il patrimonio archivistico conservato nel Veneto e in Dalmazia quello che si conserva in Dalmazia è davvero forse anche la più grande opportunità anche per il futuro degli nostri studi e proprio anche a proposito del concetto di impero coloniale vorrei ricordare anche il nostro convegno sul common west quando abbiamo discusso anche i vari e anche diversi argomenti perché quello che vale per esempio per la Dalmazia non quattrocentesca non vale per Cipro cinquecentesco proprio questo era l'argomento di Benjamil Harbel e Guillaume Sanghilin che è con noi anche oggi in questa sala poi ci ha presentato anche il caso di tutto questo dominio molto particolare veneziano sotto controllo sotto egemonia veneziana nell'Egeo oggi vorrei introdurre nel nostro tipatito un concetto il concetto di isolarità che potrebbe anche apparire alquanto banale perché siamo qui a Venezia Venezia è una isola e comunque anche questo tutto tutto lo stato veneziano era composto da isole ma vuoi vedere che cosa significhi questa isolarità e anche che cosa possa essere il concetto di isolare di insularità in quale maniera possa aiutarci anche a capire un po' meglio quello che è stato Venezia allora lo stato da mar era essenzialmente composto da isole e tali isole costituivano la parte più stabile del dominio veneziano veneziano concreta al centro con la sua storia veneziana di quasi mezzo millennio cipro quale estensione orientale dello stato da mar necroponte fortezza insulare nell'Egeo centrale le isole dalmate effettiva spina dorsali stella dalmazia veneziana soprattutto dopo la perdita dell'entroterra d'Almata a partire degli anni settanta del quattrocento l'arcipelaco ionico e quello egeo un effettivo cuore liquido della presenza veneziana nella Romania post-bizantina la Venezia del periodo classico trecentesco quattrocentesco cinquecentesco era uno stato insulare anzitutto a cominciare dal centro dallo spazio lagunare fino alla sua estensione nel Mediterraneo orientale i possettimenti continentali invece appartengono piuttosto al periodo post-classico alla Venezia intesa quale potenza media quale stato territoriale sulla terraferma che perde in Levante le grandi isole già menzionate ma espande e questo è molto importante anche sul continente delle sue frontiere terrestri in Dalmazia in varie tappe guadagno territoriale impressionante sulla carta certo balsamo per l'orgoglio ferito a Cipro e a Creta ma che non poteva equilibrare sicuramente la perdita di isole ricche e popolose e la sfortunata vicenda del breve dominio su una peninsola morea attorno al 1700 quanto fosse insulare il pensiero politico simbolico è dimostrato anche della stessa denominazione ufficiale delle grandi isole e della grande peninsola come regni regno di Cipro certo con un'altra tradizione statale regno di Creta e regno di Morea dove Venezia ha inventato e non ereditato il rango regale vale dunque superfluo insistere sull'importanza delle isole nella storia veneziana e le isole appena evocate sono da decenni se non da secoli l'oggetto di studi assidui e dettagliati cosa significa in questo contesto dunque un concetto come insularità forse si può cominciare a rispondere osservando che queste isole come già questo è già stato evocato da Egidio Ivetic anche questi grandi pezzi territoriali dello stato da Mar la parte creca quella dalmata grandi queste isole grandi medie piccole sono raramente studiate con un approccio comparativo questo vale per la Dalmazia dove il campanilismo storico si riproduce nella maggior parte della storiografia ma vale altrettanto per le grandi isole le megalonisia della Romagna che spesso vengono trattate e con buona ragione come piccoli continenti per questo autosufficienti un'autosufficienza che si riflette talvolta anche nella rispettiva ricerca ma il dibattito sull'insularità non si limita a proporre semplicemente la comparazione come strumento principe invita piuttosto a una analisi pluridimensionale dalle percezioni fino alle migrazioni e alle economie insulari il pericolo di una storia totale di uno spazio limitato dalla natura è tangibile questo è sempre un po' il pericolo di un approccio spaziale ma studiare l'insularità deve essere qualcos'altro che una nuova denominazione di una classica monografia insulare parlare di insularità significa capire meglio gli elementi che distinguono le isole dagli spazi che le circondano il mare e il continente e spesso altre isole collocare le isole in diversi contesti prendendo certo sul serio la questione dell'isolamento del distacco da altri spazi abitati ma evitando la trappola insita in ogni trattazione sugli spazi insulari cioè quella di toglierli dal loro contesto spaziale e di analizzarli come entità disconnesse dal mondo esterno in questa sede dobbiamo omettere l'insularità come topos letterario quale è stato sviluppato dall'antichità l'isola come loco San Menos ma anche come luogo di distacco di isolamento di pericolo sia naturale sia umano e Ermano Orlando ne parlerà sicuramente anche dalle isole deserte fino ai nidi di pirati dobbiamo anche ignorare le isole come spazio di ricreazione e di cura terapeutica con bani e altri spazi non raramente santi o circondati da un soffio divino queste costruzioni di insularità costituiscono un vasto campo di ricerca si pensi alle relazioni di viaggio di pelerinaggio strumento di elaborazione esterna e alle forme di identità interne mi riferisco alla storiografia e alla letteratura locale soprattutto sulle grandi isole ma anche le varie costruzioni identitarie legate sia alla tradizione giuridica come in Dalmazia sia a interessi economici e di autogestione come a Creta hanno un peso particolare riflessioni sulla separazione l'isolamento la retratezza delle isole messe in rilievo dagli cosiddetti island studies che si occupano soprattutto dello spazio atlantico la storia sociale si interessa alla demografia alle migrazioni alla colonizzazione alle relazioni tra terraferma e isola la storia economica agli aspetti maritimi commercio contrabando pesca ma anche a quelli spesso negletti dell'economia agricola vino olive picchi mandorle ma anche cereali e i prodotti dell'allevamento di bestiame formaccio in prima linea soprattutto a Creta la storia politica infine si interroga sull'autonomia delle isole sui loro rapporti con le potenze della terraferma questi erano proprio risultati anche di un volume collettivo pubblicato recentemente in Germania che cercava di sintetizzare questi island studies e in genere il debattito sulle isole nell'epoca premoderna in questa sede ci proponiamo in un contesto veneziano di studiarle piuttosto nel loro aspetto pratico per la navigazione il commercio il controllo dello spazio maritimo per l'amministrazione limitandoci al periodo classico e alla mia isola prediletta già evocata l'isola di Cursola ma prima di entrare in un'analisi più dettagliata occorre una preliminare codificazione delle insularità veneziane in oltre mare una specie di tipologia sotto l'aspetto della spazialità cioè delle dimensioni spaziali della vicinanza o la distanza dal continente abbiamo già accennato alle isole grandi le megalonissia lontane dal continente piccoli continenti come Creta o Cipro con distinte tradizioni politiche istituzionali culturali e una sviluppata e articolata identità insulare che si manifesta in tradizioni letterarie dalla cronachistica fino ai vari generi letterari come la satira il teatro l'epos soprattutto a Creta con un numero considerevole di abitanti con una metropoli e altri centri urbani e altri centri urbani queste grandi isole sono lontane dalla metropoli Venezia e penché mantengono comunicazioni strette con gli spazi continentali vicini seguono una logica propria possiedono un peso proprio mentre Cipro non è circondata da un accipelago Creta costituisce una vera barriera all'entrata nel mare Geo e da Creta da Cambia dipende politicamente e economicamente il mondo dell'accipelago organizzato nel medioevo come Ducato dominato da varie famiglie patrizia veneziane altre due isole grandi invece si trovano strettamente collegate con la terraferma mi riferisco a Necroponte distante nel punto più angusto pochi metri dalla Creccia continentale e la Morea geograficamente una penisola che storicamente oscilla tra insularità e appartenenza alla logica continentale i vari tentativi pizzantini e veneziani di fortificare l'istmo di Corinto o l'examilion e di trasformare la Morea da una penisola in una insola testimonia all'interesse di disconnettere la Morea dal tronco continentale della Creccia in ambe due i casi la vicinanza del continente minacciava e alla fine spazzò via la presenza politica della Serenissima nel 1463-14 Venezia visse il colasso della sua offensiva in Morea e qualche anno più tardi Necroponte cade di fronte all'esercito ottomano comandato Don Maometo II certo con la distanza dal continente la distanza del continente non offriva una protezione assoluta come dimostrano la perdita di Cipro e la già evocata invasione di Creta comunque nel 400 con un nemico che doveva ancora formare una flotta capace di gestire operazioni logistiche marittime di grande complessità le isole non soltanto le due megalonissia ma anche le isole Ionie e Dalmate permettevano riparo e Rifugio mentre la Morea include un gran numero di città a Necroponte la vita urbana si concentra nella fortezza dello stesso nome questo sistema una capitale porto principale e insediamenti rurali caratterizza anche la maggior parte delle isole medie e minori continuiamo il nostro breve percorso attraverso l'insularità veneziana e giungiamo alle isole medie lontane dal continente in questa categoria sono da annoverare le grandi isole cicladiche come Naxos come centro politico delle cicladi circondato da un folto gruppo di isole minori e minuscole questo mondo si trovava sotto un dominio indiretto da lungo tempo inserito nel sistema feudale dell'impero latino e più tardi dipendente per la loro difesa dai reggimenti veneziani di Creta e di Necroponte la maggior parte delle isole medie sotto il dominio veneziano comunque si trovano vicino alla terraferma Andros nell'Egeo le isole Ioni e Tizante Cefalonia e soprattutto Corfu e le isole d'Almate di Cursola Lesina Prazza Cerso e Velia tranne Prazza isola senza città porto e Cursola dove i villaggi contestavano leggemonia della città porto le altre isole seguono il modello di un porto dominante circondato da villaggi più o meno dipendenti nel periodo classico il peso del mondo inzulare politico economico e demografico era maggiore di quello dei possedimenti continentali almeno nello Stato da Mar questo vale soprattutto per la Romagna dove Creta assume una funzione centrale mentre i possedimenti continentali da Putrinto a Lepanto a Corone e Modone Argos e Nauplia per non parlare dell'effimera presenza a Salonico rivestono certo una funzione chiave nel sistema marittimo già evocato da Gerardo Ortali ma dipendono per la loro difesa dalla grande isola di Creta e nel caso di Lepanto e Putrinto di Corfu possiamo dunque parlare di un modello di insularità dominante di una centralità insulare e una terraferma periferica che ricorda il rapporto metropoli e spazio lagonare prima della grande espansione veneziana nella terraferma veneta un caso particolare è l'Albania veneziana spazio singolare nel sistema veneziano perché privo di isole ma uno sguardo più attento ci mostra comunque che Durazzo circondato da canali e paludi ed Alessio con la sua isola nel fiume Trin possono essere annoverati tra i fenomeni di insularità veneziana inoltre mare la Dalmazia invece ci offre una interazione particolare tra terraferma e mondo insulare molto diverso anche dal sistema nella Grecia veneziana dominano i grandi comuni continentali da Zara fino a Spalato da cui dipendono politicamente e economicamente un numero considerevole di piccole isole ogni comune ha il suo accipelago ma ci sono anche le isole indipendenti comuni che si vantano dei loro statuti come le grandi città della terraferma anche questi comuni amministrano il loro accipelago composto da isolette e scuoli importanti per la pesca anche il pascolo e riproducono spesso il sistema continentale di città e contado cioè di dipendenza dello spazio rurale da una città portuaria dominante questa insularità dalmata rimane comunque poco studiata soprattutto se la paragoniamo con l'insularità ionica e egea mentre aspettiamo studi approfonditi cioè al di là di presentazioni nello stile ottocentesco della storia patria su molte isole dalmate l'accipelago egeo ha tratto da Karl Hopfen poi una pleia di di storici che hanno ricostruito sulla base di una documentazione spessa frammentaria e lacunosa con grande fantica strutture politiche e socio-economiche che in Dalmazia grazie a una ricchezza enorme di fonti potrebbero essere studiate in ogni dettaglio si può ragionare sui motivi di questo squilibrio storiografico e ci ha fatto Egidio Ivetic in prima linea nel caso degli storici extra-regionali cioè francesi tedeschi inglesi americani che hanno contribuito tanto alla venezianistica ovviamente la metropoli e questo tripticon che ha caratterizzato ed è scritto Egidio Ivetic Veneto e la Romania svolgono un'attrazione molto più forte della Dalmazia qui manca forse lo splendore di Venezia e l'esotismo del mondo post-pizzantino se ci limitiamo nella seconda parte della nostra relazione al caso dell'insularità dalmata questo è dovuto proprio alla particolarità tipologica del rapporto terraferma mondo insulare e la specificità della documentazione l'isola di Cursula che sto studiando adesso già da dieci anni che sarà al centro delle riflessioni che seguono può essere studiato non solo sulla base del vastissimo archivio conservato a Zara ma anche di un nuovo archivio quello che ho già descritto brevemente Cursula isola di medie dimensioni l'ultima della galassia di isole autogestite della Dalmazia ci offre l'occasione di approfondire le riflessioni tipologiche cominciamo con la sua posizione geografica e politica situata vicino alla terraferma e questo molto importante da cui è separata dal canale di Sapioncello Pellejats Cursula è una isola di frontiera frontiera politica ma anche frontiera economica tra Venezia e Ragusa tra Venezia e la sfera napoletana nell'Adriatico meridionale tra Venezia e l'Herzegovina balcanica verso est e sud questa frontiera è vicinissima la montagna di Sapioncello si erige a pochi metri della città porto e al di là di questo monte si trova l'estuario della Narenta la Neretva da dove partono le carovane per la Bosnia la corso la quattrocentesca approfitta di questa costellazione tra varie frontiere multiple e ne soffre anche entrata nel 1420 nel dominio veneziano sulla base di un patto l'isola e gli isolani si inseriscono rapidamente nel vasto sistema maritimo di Venezia e diventano parte integrale dello spazio economico comunicativo di Venezia allora proprio questo anche per continuare il discorso di Egidio e Ivetich non si può parlare di un impero coloniale ma di uno spazio comune uno spazio condiviso i marinai corsolani si muovono tra Venezia e questo è adesso molto importante anche Corfu e Venezia questa integrazione di corsola anche offre delle possibilità a questo mondo maritimo di questa piccola isola dalmata il porto si sviluppa diventando una tappa importante del commercio non solo atriatico ma anche levantino quello che non è stato prima gli approdano le grandi gale e si moltiplicano gli affari tra mercanti locali e partner veneziani ma Venezia aumenta e questo nel contesto locale molto importante Venezia aumenta la sicurezza proteggendo gli isolani contro la concorrenza ragusana prima del 1420 Cursola era appartenuta al regno di Ungaria e aveva vissuto all'ombra della vicina ragusa che dominava il commercio ma anche la pesca e dopo l'entrata nel sistema veneziano l'isola esce da questa ombra e supera la dipendenza da Ragusa e ne paga il prezzo sono innumerevoli i conflitti spesso notturni tra pescatori ragusani e corzolani ma questi ultimi adesso protetti da Venezia sono ricorrenti le incorsioni di falegnami ragusani nei ricchissimi boschi dell'isola e la vicinanza ragusana insulare lagosta lastovo e anche una vicinanza continentale in quanto riguarda il sapioncello comunque l'isola si arma e i rapporti della nave allestita con funzioni di polizia talvolta è anche indicata all'ora di ritorno ci mostrano le squadre che pattugliano armate di bombarde moschetti e sicure anche dell'appoggio veneziano dalla terraferma partono non soltanto i ladri di legnami ragusani ma anche la gente della craina cioè delle regioni marittime dell'Herzegovina interessato soprattutto al bestiame corzolano segnale della concorrenza tra pastori corzolani e continentali frontiera marittima invece infine verso il regno di Napoli Cursola nel 400 fu risparmiata da attacchi dalla terraferma attacchi ottomani ma nel 1484 una flotta napoletana devastò la nostra isola mentre Venezia migliora la posizione di Cursola nei confronti di Ragusa l'appartenenza allo Stato d'Amarco provocò l'attacco napoletano essere parte del sistema veneziano insulare complica comunque le attività commerciali degli isolani esplorano certo le nuove possibilità che offre loro il commercio con Venezia e lo Stato d'Amar anche la parte greca in genere ma sono costretti di difendere i vecchi legami con l'Italia non veneziana e con i Balcani Crane Crano e sale pugliesi transitano dall'Italia del sud attraverso Cursola verso l'estuario della Narenta e questo commercio transatriatico è in principio vietato dalla legislazione commerciale della dominante e di conseguenza nel 400 esplode il contrabando ma è contrabando soli solo agli occhi dei veneziani mentre gli isolani mirano soltanto a mantenere il tradizionale sistema di scambio commerciale e incapace di interrompere completamente questa rete Venezia legalizza tacitamente l'esportazione verso i porti della Puglia e delle Marche verso i porti del Quarnero Ungherese e anche l'Herzegovina tollerà anche le attività commerciali di Patrizzi Corsolani sulla Narenta dove affittano la Dogana e aumentano naturalmente in concorrenza con i ragusani che era anche il concorrente dei veneziani il peso della presenza veneziana le interazioni tra isola spazio maritimo e terraferma sono dunque varie e complesse e Venezia le rispetta in larga misura interviene soltanto dove sono violati i suoi interessi vitali ad esempio nella vendita di armi a nemici in tempo di guerra Corsola appartiene al gruppo di isole dalmate con una propria tradizione comunale e statutaria si vanta della più vecchia codificazione del diritto comunale in tutta la Dalmazia che è risalente al primo 200 come gli altri comuni Dalmat Corsola condivide con Venezia lo stesso mondo e la stessa mentalità giuridica e non lo stesso mondo linguistico ma soprattutto un mondo mentale un mondo giuridico e questo sicuramente facilita l'entrata nel dominio veneziano e costituisce la base dei patti con la serenissima studiati anche da Gerardo Ortalli il diritto non isola ma collega Corsola con un mondo più vasto questo vale anche per la confessione religiosa sicuramente che nello spazio post-pizzantino divide e separa ortodossi e cattolici Corsola cattolica invece si trova vicino certo vicino a uno spazio balcanico pluriconfessionale ortodosso chiesa bosniaca e chiesa cattolica ma non ne viene trovata infatti le altre confessioni sono invisibili nella documentazione locale forte è invece il legame con un mondo cattolico in Italia i testamenti pululano di donazioni per il pellegrinaggio al vicino Gargano a Loreto a Roma e talvolta anche a Compostella senza dimenticare l'abbazia beneditina di Rotezzo di Rattaz vicino a Antivari Mentre la religione non costituisce una barriera di questa insularità corzolana il dominio veneziano impone al clero locale dei vescovi veneziani che sicuramente collegano il clero locale e questo piccolo mondo insulare alla metropoli ma comunque collidono spesso anche con gli interessi economici dei ceti ecclesiastici corzolani tra le isole d'Almate Cursola eccelle per il peso demografico e politico dello spazio rurale anche questo un punto già evocato gli Island Studies distinguono tra isole con un centro e isole che ne possiedono due o ancora più centri urbani rari invece sono i casi in cui i grandi villaggi equilibrano la dominanza della città porto e dove questo peso incita la popolazione rurale a reclamare delle rivendicazioni politiche Cursola il centrale villaggio di Plato ha più abitanti della città porto che si trova all'estremità orientale dell'isola Plato si dota di una loggia simbolo di urbanità centro d'affari e di sociabilità nei primi decenni del dominio veneziano i contadini reclamano l'autorizzazione di un proprio consiglio denominato secondo una vecchia tradizione slava vece e chiedono il diritto di interpretare gli statuti sino ad allora privilegio del ceto patrizio tensioni tra patrizi e popolani caratterizzano tutta la Dalmazia ma solo a Cursolo i contadini sono in grado di sviluppare una posizione di forza di fronte ai patrizi ai patrizi Venezia diventa un mediatore e ne deriva il controllo politico su un'isola dove non mantiene né una guarnigione né un grande apparato amministrativo anche in questo caso non si può parlare di sistema coloniale del sistema veneziano il Damazio fosse in sostanza basato sulla negoziazione anche questo è un concetto elaborato negli ultimi anni da Hermano Orlando e la creazione di un equilibrio tra forze locali la garanzia del diritto locale e su un cauto adattamento al sistema giuridico veneziano appartiene ai più importanti risultati della ricerca recente Cursola conferma questa regola e ne fornisce una base empirica la cultura del diritto era molto sviluppata a Cursola e se si se si può parlare di identità al singolare dei Cursolani questa si riflette nel diritto nella maniera in cui patrizi e popolani popolazione urbana e rurale lo interpretano lo rivendicano e lo mettono anche in un contesto adriatico cioè questo è il corte d'appello a Venezia allora di nuovo un sistema condiviso un sistema giuridico comune infatti è altissimo il numero dei processi civili e penali e i Cursolani testimoniano una impressionante fiducia in un sistema giudiziario che sentono come loro che appartiene loro ma è comunque parte di un di un sistema patriatico molto più vasto altri elementi di identità insulare invece sono difficilmente rintraccibili nel settore confessionale ma anche l'alterità ortodossa nel settore linguistico una presenza neolatina più consistente intense sono invece le frammentazioni identitarie all'interno della società insulare tensioni politiche economiche sociali e spaziali benché esiste una scuola finanziata con una tassa particolare Cursola non partecipa alla produzione letteraria della Dalmazia rinascimentale la vicina Lesinach Vare invece sviluppa un proprio focolaio di pensiero politico e identitario slava con l'opera di Vinko Prebojevic della fine del Quattrocento e la vicina Ragusa supera tutte le altre città invitando umanisti importanti e reclutandoli come cancellieri e per altre cariche statali Cursola tace ne sono visibili tracce di discorsi umanisti ma l'umanesimo si riflette nell'antroponimia con pari dei Ettore anche come nomi per figli di contadino con nomi e non è facile spiegare questa assenza in un contesto umanista molto molto ben sviluppato e precondizioni per un discorso umanista non mancano la scuola un intenso traffico atriatico l'interesse per almeno un testo e questo testo sono proprio gli statuti i cui paragrafi vengono citati anche dai contadini e esiste anche e deriva da di questo dibattito sui statuti anche una cultura retorica di cui l'eco si trova negli atti dei processi purtroppo non disponiamo più dell'archivio di Lesina distrutto durante l'attacco ottomano del 1571 ma strutturalmente le due isole vicine comunque diverse nel settore della cultura umanista non si distinguono tanto si pensi soltanto alle tensioni altissime tra popolani e patrizi a Lesina all'inizio del 500 comunque la scarsità di riferimenti a Lesina è questo un argomento anche nel debattito sull'insularità nella documentazione Corsolan ci fa dubitare che le due isole mantenessero davvero un rapporto molto stretto i punti di riferimento per Corsola è stato ovviamente Ragusa e Venezia con Lesina e le isole vicine Corsola viene regolarmente menzionata nelle relazioni di Pelecrini di Passaccio in Dalmazia il piccolo porto comunque di solito non desta un interesse particolare comunque manca anche un discorso esterno l'insularità si misura anche in categorie economiche e mentali e questo è l'ultimo argomento che vorrei sviluppare cioè nella continentalità e la marittimità degli abitanti anche nelle isole medie la maggior parte degli abitanti viveva di agricoltura e di allevamento del bestiame a Corsola la maggioranza dei villaggi volge le spalle al mare si trova trovano nell'entroterra lontano dal mare e dai suoi pericoli la vita dei contadini di Plato e di Ciara aveva poco a che fare con le esperienze dei marinai o dei pescatori ritmo agricolo cultura del vino dell'olio dei fichi e dappertutto e pecore si dimentica troppo spesso quanto fosse importante l'attività pastorale nelle isole i cui formaci erano ricercati sul mercato di Venezia è noto il caso dell'isola di Pago Pag si conosce anche l'importanza del porto di Sevenico ma anche le isole come Cursola offrono delle ottime condizioni per l'allevamento delle pecore prati e poschi sull'isola e sugli scuoli vicini dove gli animali sono trasportati in parca ovviamente la peste aveva ridotto la popolazione di Cursola e le fonti tardotrecentesche attestano case rovinate in tutte le parti dell'isola nel Quattrocento comunque la crescita della popolazione fa aumentare i conflitti tra pastori e contadini si inasprisce la concorrenza sui terreni bisogna ritenere tuttavia che i pastori fossero parte delle comunità rurali e che non fossero organizzati in Khatum come nella terraferma balcanica in ogni caso vivevano ai margini della società insulare comunque collegati con le elite locali attraverso numerosi contratti l'agricoltura di Cursola sottostà ai cambiamenti lenti certo ma tangibili provocati dall'inserimento nello spazio economico veneziano e questo è anche un argomento per il collegamento tra insularità locale e uno spazio economico più vasto questo vale soprattutto per la produzione di pecce articolo ricercato negli arsenali di Venezia la domanda è tale da indurre i corzolani a distruggere i loro boschi e costringe Venezia ad intervenire per proteggere l'ambiente questo prezioso patrimonio naturale contro l'avidità degli imprenditori locali con le sue strutture rivolte verso l'entroterra Cursola non è un caso singolare si pensi a molte isole egee dove il centro economico si trova sulle coline o sul monte dell'isola ben protetto da attacchi di pirati e i contadini corzolani condividono il sistema economico con i paesani delle isole Ionie vivere su un'isola non significa fare una vita marittima non possiamo calcolare il contributo del commercio della pesca all'economia insulare rimane comunque certo il fatto che l'agricoltura e non il mare costituisce per gli insolani la base di sopravvivenza se ci allontaniamo del nostro caso esemplare occorre chiederci in che misura il concetto di insularità ci abbia davvero permesso di cambiare meglio Venezia e il mare il grande tema del nostro convegno certo ha messo in rilievo una dimensione spaziale particolare e alquanto banale Venezia e soprattutto lo stato da mar nel periodo classico è un fenomeno marittimo un sistema politico economico che si basa su isole sono le isole che costituiscono le roccaforti del dominio veneziano e molto meno i possedimenti continentali che diventano importanti solo a partire della seconda metà del seicento mentre gli island studies si incentrano su casi tratti dal mondo atlantico con le sue isole lontane dalla terraferma e difficilmente accessibili isole che sono state scoperte soltanto a partire della fine del quattrocento l'insularità veneziana si svolge in un ambiente del tutto diverso conosciuto esplorato colonizzato ma nell'antichità civilizzato non nasconde secreti e pericoli esotici pericoli certo ma non pericoli esotici il carattere insulare della metropoli facilita l'espansione veneziana nel mondo post-pizzantino i veneziani percepiscono il mondo dal mare già anche questo un aspetto sviluppato da Gerardo Ortali mentre i loro concorrenti ungaresi napoletani ottomani per non parlare dei signori regionali vedono nelle isole una periferia non a caso il regno d'Ungheria non lasciò braci turature sulle isole d'Almate e fatta eccezione per le isole con un carattere fortemente continentale come Creta o Cipro nemmeno l'impero ottomano penetrò nei capilari dell'insularità Egea come la montagna le isole rimangono uno spazio periferico di questo sistema imperiale per Venezia vale il contrario la terraferma è lo spazio d'espansione che si esplora dalle basi insulari e queste basi offrono tutto ciò di cui Venezia ha bisogno porti arsenali acqua vettovaglie marinai navi per il commercio regionale talvolta anche legnami pece ed altri materiali per la costruzione navale ma quale è la funzione per il mondo insulare del Mediterraneo orientale Venezia è il potere che collega le isole le trasforma in un sistema maritimo coerente ne dà un senso al di là della dipendenza da poteri continentali Venezia città insulare mette in rilievo il potenziale dell'insularità e ne approfitta nell'epoca della sua più grande estensione sia politica sia economica grazie bene grazie questo intervento che si combina molto bene nonostante l'apparente differenza con quanto ci diceva Egidio Egidio Ivetice ho l'impressione ma forse ci sarà un po' di tempo dopo la relazione di Ermanno per qualche domanda per discuterne ma ho l'impressione che proprio stia crescendo con questi convegni inventati dall'Istituto Veneto una nuova stagione della storiografia ma non devo essere io a dirlo darei la parola subito a Ermanno Orlando sì grazie no non lo trovo ecco Va bene, buongiorno a tutti. Allora io, come dire, in qualche modo sono stato evocato per altre cose, ma in realtà la relazione che io faccio è completamente in discontinuità con quanto è stato detto finora. E quindi veniamo proprio al centro, veniamo a Venezia. Quindi in quella sorta di guida ante l'iteram, che sono i diari e gli itinerari di viaggio dei pellegrini medievali, che appunto sono in procinto di imbalcarsi a Venezia per la Terra Santa, la prima istantanea della città rinvia inevitabilmente alla sua collocazione geofisica e al suo rapporto congenito e vitale con l'acqua e il mare. Impossibile descrivere Venezia senza collegarla immediatamente con l'acqua, trattandosi di città senza uguali al mondo, qui cito da una fonte, posta, come dovete sapere, appunto nell'acqua. Per tutto il Medioevo queste due realtà avevano rappresentato un binomio inscindibile. Quello tra la città e il mare era un rapporto irrevocabile, ancestrale, esclusivo, impensabile a raccontare Venezia senza fare immediatamente riferimento al mare, senza guardare ai legami concreti e materiali, ma anche simbolici e trascendenti, in tessuti tra la città e l'acqua da cui era sorta e nella quale risultava fondata. E questa è un'immagine, tra le tantissime che avrei potuto mettere, che ben esemplifica questa realtà appunto di Venezia fondata sul mare. Quindi, prima ancora della città in sé, è il suo legame profondo e sostanziale con il mare il grande protagonista dei racconti dei pellegrini. Io utilizzerò appunto la fonte dei pellegrini per, in qualche modo, spiegare questa ostentazione del rapporto di Venezia con il mare. Ecco, i pellegrini sembrano abilmente cogliere, sotto la regia attenta e interessata appunto di Venezia, la magnificenza di una città del tutto singolare, proprio perché in acquis fondata, e che su quel miracolo originario aveva costruito non solo la sua potenza e la ricchezza, ma anche appunto il suo ricchissimo, e vedremo, apparato celebrativo in breve, celebrativo e propagandistico. Inutile dire come nella complessa mitografia lagunare e in tutta la liturgia civica che ne derivava, l'acqua e il mare occupino un posto di assoluto rilievo, a cominciare dalla leggenda della Venezia nata dal nulla, come Venere dalle onde del mare, e fondata quasi divinamente sulle acque. Leggenda che è un po' come dire la madre di tutte le leggende veneziane, su cui non mi soffermo, ci sono studi molto più a partire dalla persona che mi sta qui accanto, quindi io non mi addentro. Questa che vedete appunto è una, anche questa è un'immagine tratta invece dall'archivio di Stato, che rappresenta appunto Venezia fondata sul mare al centro della laguna. L'egemonia sul mare quindi era come già scritta nell'eccezionalità della sua nascita, libera e prodigiosa dalle acque, essa serviva a svelare alla stregua di una profezia il futuro di egemonia marittima della città, visto che il mare appariva già propizio e disponibile al momento stesso della sua creazione, pronto ad essere dominato dai suoi traffici e dalla sua intraprendenza commerciale. Il messaggio quindi era chiaro, anche per i pellegrini che a fine Medioevo si sarebbero fatti portavoce di questa rivelazione, ad una città nata e cresciuta sull'acqua, il mare in sostanza non poteva che spettarle in sorte. Questa è un'altra appunto bellissima mappa dell'archivio di Stato che raffigura questa eccezionalità appunto di Venezia. Quindi veniamo un po' a vedere il rito, come recepisce questo rapporto tra Venezia e il mare, quindi il senso del mare. È risaputo che sin dal pieno Medioevo, lo sappiamo appunto, Venezia era diventata la base di partenza di un servizio regolare e frequente di collegamenti con la Terra Santa. Prima di imbarcarsi però i pellegrini erano spesso costretti ad attese anche molto lunghe, questo per motivi diciamo logistico-organizzativi, dovevano organizzare il viaggio, ma anche legati alla stagionalità della navigazione marittima consentita solo nei mesi tardo-primaverili ed estivi. Ecco, durante la sosta questi pellegrini erano trascinati in un vorticoso processo comunicativo e di autocelebrazione urbana, abilmente ovviamente orchestrato da Venezia stessa, il cui culmine era rappresentato dalla festa dell'ascensione, dall'assenza. Infatti la partenza per la Terra Santa era di norma fissata qualche giorno dopo questa festività, ma che prevedeva, lo vedremo brevemente, anche delle tappe intermedie come la visita rituale all'arsenale o il tour devozionale presso chiese e monasteri lagunari dove appunto erano custodite in gran coppia le più preziose reliquie. Questo è uno di questi bellissimi diari di viaggio, questo appunto illustrato, con queste illustrazioni appunto questo Corrad Grunenberg e questa è ovviamente la meta finale, cioè Gerusalemme. Quindi il soggiorno obbligato diveniva in questo modo l'occasione per Venezia per mostrare ai visitatori la propria magnificenza, le proprie meraviglie, le poderose strutture urbane e marinarie della città per affascinarli con la potenza evocativa dei propri miti e per sedurli con l'ostentazione solenne del suo complesso apparato liturgico e simbolico. E' adesso appunto che il rito si trasforma nella sublimazione della potenza e magnificenza del comune lagunare e nella manifestazione del suo legame intimo, inevitabile e vitale con il mare. Ecco, mi preme sottolineare, anche se fosse un po' inutile, quanto i pellegrini fossero non solo parte integrante di questa liturgia civica ma ne fossero una componente essenziale. Senza la loro esegesi e la loro divulgazione all'esterno, una tale mistica celebrativa sarebbe rimasta sterile e fine a se stessa. Il rito, per risultare efficace, aveva bisogno di un pubblico partecipe e in qualche modo consapevole del proprio ruolo, ruolo che nel caso dei pellegrini era non soltanto di comparsa o di rappresentanza, ma piuttosto di commentatori e propagatori, appunto al mondo intero, di questo complesso memoriale celebrativo. Ecco, non a caso, le più belle e dettagliate descrizioni che abbiamo dell'assenza le dobbiamo spesso alla penna e allo stupore dei pellegrini. Porto qualche piccolo esempio. Il portoghese Perotafur era giunto a Venezia per imbarcarsi nelle galei di Terra Santa, il 26 maggio 1437, siamo in piena festa dell'ascensione, fa ritorno l'anno successivo, dopo che sia stato in Terra Santa, nel mezzo sempre dell'assenza, quando il mare era talmente brulicante di imbarcazioni, di tutti i tipi e di tutte le fogge, che la barca su cui viaggiava aveva fatto fatica ad entrare in porto. Una volta sceso a terra, era stato risucchiato da una folla festante accalcata in ogni angolo di piazza San Marco, si era quindi fatto largo a fatica, era riuscito ad entrare in basilica e lì aveva assistito alla messa solenne. E questo è un quadro appunto famoso di Vittorio Carpaccio, proprio la partenza per il pellegrinaggio. Ecco, quasi senza opposizione, si era quindi lasciato travolgere dai festeggiamenti che avevano seguito il rito liturgico, come gli altri si era catapultato verso una delle centinaia di imbarcazioni pronte a prendere il mare per assistere al rito dello sposalizzo del mare, che appunto era il vertice del cerimoniale civico veneziano. inghiottito dal corteo che seguiva festante il bucintoro, cioè la galea da parata del comune, su cui viaggiavano tirati a pompa il doge, la corte, l'alto clero, era stato trascinato sino all'imbocco della laguna, sino a San Nicolò, cioè dove una fenditura sul lido metteva in collegamento la città con il mare. E lì assiste estasiato alle cerimonie con cui la città ogni anno legittimava e ribadiva il proprio dominio del mare, cioè la benedizio e la desponsatio, annotando tuttavia, questo così divertente, questa annotazione, che di fronte a tanta selva di imbarcazioni, e lui dice cosa peraltro assai fermosa, molto bella appunto da vedere, il mare era nel frattempo quasi pressoché scomparso dalla sua vista. E direi che anche questa, come dire, questa presenza così massiccia di imbarcazioni sul mare è un motivo di addomesticamento dello stesso mare, di cui dobbiamo tenere presente. Oltre a Tafur, diversi altri pellegrini ci hanno lasciato pagine altrettanto intense e dettagliate sulla festa dell'ascensione, quindi non mi indilungo, cito soltanto il milanese Santo Brasca, approdato in laguna nella primavera del 1480, dove, prima di prendere il mare per la Terra Santa, appunto assiste all'assenza, che, appunto cito, certo era una grandissima magnificenza da vedere. Oppure, il dominicano svizzero Felix Faber, la cui descrizione della città nel 1483 è fra le più puntuali, vivide e piene di ammirazione, scaturite appunto dalla penna di un pellegrino, compresa la descrizione dell'assenza con la sua maniloquinza, il coinvolgimento di tutte le gerarchie cittadine, sia civili che ecclesiastiche, l'adesione integrale di tutto il popolo, il concorso appunto di multe valde navibus, anche qui questa appunto ricorrenza, questa sottolineare, questa presenza massiccia appunto di navi, e il suo procedere ad mare solemni spettacolo, quindi con appunto uno spettacolo solenne. Ecco, una cosa che voglio sottolineare è che molti di questi pellegrini nel descrivere le solennità dell'assenza ne avevano correttamente ricondotta la Genesi all'apparato di racconti e leggende fioriti attorno alla pace di Venezia, pace del 1177, e alle donazioni che nell'occasione Papa Alessandro III avrebbe fatto alla città a ricompensa del suo sostegno nella lotta contro l'imperatore Federico Barbarossa, uno dei tanti trionfi che gli stessi pellegrini avevano modo di ammirare nella loro visita, anche questo faceva un po' parte del tour a cui erano obbligati questi pellegrini, alle sedi di Palazzo Ducale, dove un ciclo di affreschi, che oggi è andato perduto, ne commemorava le vicende con una ricchezza di dettagli e una tale potenza comunicativa da far esclamare al milanese, questa volta Piero Casola, siamo nel maggio del 1492, che tutta questa storia è fatta tanto ricca e naturale di figure che credo le si possa poco aggiungere. In quel frangente, quindi, durante la pace del 1177, la città aveva ricevuto dal pontefice una serie di doni fondativi della sua sovranità, tra cui appunto un anello d'oro e il diritto di sposare il mare, in segno di dominio e a giustificazione e appunto a legittimazione agli occhi delle potenze straniere della sua indiscutibile preeminenza marittima. Ecco, proprio l'anello e i diritti ad esso collegati erano appunto alla base dell'assenza, non solo la più importante liturgia civica elaborata dalla città, ma anche quella più coinvolta con l'elemento acqueo e con la simbologia di possesso e dominio degli spazi marittimi che ovviamente qui interessano. La cerimonia era celebrata all'inizio dell'estate, in concomitanza con l'apertura ufficiale della stagione della navigazione, si svolgeva appunto, dicevo prima, presso la bocca di San Nicolò, cioè dove la laguna incontrava il mare, in questa diciamo area liminale tra laguna e mare. Questa è sempre un'immagine tratta appunto da questo diario che raffigura proprio la bocca di San Nicolò. A San Nicolò quindi avevano luogo le celebrazioni solenne che almeno a partire dal XIII secolo fondevano due distinti riti civici, cioè la benedizione del mare a commemorazione della fortunata spedizione navale con cui Pietro II Orseolo, siamo nell'anno 1000, aveva debellato la pirateria slava ed esteso quindi la prima estensione del protettorato di Venezia sull'Adriatico e sulle coste d'Almate e poi lo sposalizio del mare. La benedizio, la prima parte diciamo della cerimonia, era in qualche modo la trasposizione in ambito lagunare della più tradizionale festa di primavera che era diffusa ovunque nella vicina terraferma, ovviamente a Venezia fatta non allo scopo di propiziarsi la fertilità della terra, ma semmai di ingraziarsi il mare e di sfruttare al meglio le potenzialità economiche e produttive appunto del mare, di questa risorsa. Come ci riferisce sempre Piero Tafure, la cerimonia era ufficiata dal Vescovo di Castello, che poi diventa patriarca, sappiamo, dal 1451, il quale, dopo aver pronunciato le orazioni di rito, benediceva il mare e la folla a corsa ad assistere allo spettacolo aspergendoli con l'acqua benedetta. Oltre che un rito propiziatorio, la benedizio era anche una liturgia di pacificazione, il cui intento era quello di addomesticare appunto l'elemento acqueo, di esorcizzarne le molteplici minacce, domandone le componenti più pericolose e imponderabili, così appunto da asservirlo alle necessità marittime e mercantili della città. Dopo le benedizioni, impartite dal patriarca, iniziava invece la cerimonia solenne della desponsatio, che in proseguo di tempo diventa, diciamo, la parte centrale di tutta la liturgia. Era allora appunto che il doge, la massima autorità cittadina, si sporgeva dal bucintoro e lanciava in acqua l'anello d'oro, ricevuto in dono da Papa Alessandro III, intonando, come rito di propiziazione e possesso, la nota formula desponsamus te mare insignium veri perpetique domini, ne disposiamo a mare in segno di vero e perpetuo dominio, la desponsatio costituiva quindi il fondamento simbolico e figurato di tutte le rivendicazioni di dominio esercitate da Venezia sul mare, era la consacrazione dell'egemonia piena della città sugli spazi marittimi e la legittimazione delle sue pretesi di supremazia politica e commerciale sulle acque adriatiche e mediterranee come i miei relatori precedenti appunto hanno ben evidenziato. E questo è sempre da questo diario, è la raffigurazione proprio del bucintoro durante appunto la festa dell'assenza. L'intera cerimonia era quindi pensata come una celebrazione scusate una presentazione una celebrazione della potenza veneziana e una dichiarazione della sua signoria del tutto lecita e insindacabile su quel mare che prima ammansiva con la benedizione e poi appunto sottometteva con lo sposalizio rituale. In questo modo ogni anno Venezia riprendeva possesso delle sue acque acque che le appartenevano quasi per diritto originario e che nessuno avrebbe più potuto contestarle in forza delle tante vittorie e dei molteplici successi commerciali ovviamente dall'anno 1000 in poi nel frattempo ottenuti. Allora a suggellare questa diciamo cerimonia era un contratto lo sposalizio dalle forti implicazioni politiche e simboliche il matrimonio infatti stabiliva un rapporto consensuale e indissolubile tra lo sposo in questo caso Venezia e la sposa il mare in qualche modo il rapporto invertito rispetto a quanto ci diceva prima Egidio Ivetice cioè di Venezia signora dell'Adriatico del Mediterraneo e invece Nettuno che era la figura maschile. la cerimonia fondava su una sintassi e una simbologia che ricalcavano in tutto e per tutto appunto la liturgia del matrimonio alla base vi era il libero e reciproco consenso dei due nubendi Venezia e il mare inteso come condizione preliminare del matrimonio e quale unico e indispensabile momento performativo dell'obbligazione l'intero rito era ufficiato da un celebrante il doge capace di garantire all'evento in nome del ruolo pubblico e delle alte funzioni esercitate non solo le necessarie tutele giuridiche ma anche il giusto grado di pubblicizzazione e di legittimazione all'esterno e poi come vi dicevo all'inizio con la partecipazione appunto folta nutrita di spettatori testimoni anche di origine straniera e tra questi appunti i pellegrini ai quali poi spettava il compito di divulgare dentro ma specialmente fuori la città la cerimonia cui avevano assistito tutto il cerimoniale quindi era abilmente costruito sullo stretto legame tra le parole proferite il desponsamus temare e i gesti in particolare il lancio dell'anello le parole erano la causa efficiente del matrimonio diciamo le sole capaci di rendere sostanziale e indissolubile questa obbligazione i gesti però servivano a visualizzare il consenso e a dare corpo alle parole appena proferite stante appunto la loro funzione rafforzativa e comunicativa dell'evento il rito dell'anello infatti che chiudeva appunto l'intero cerimoniale aveva la funzione primaria di completare e ratificare lo scambio di consensi e rendere intellegibile anche al mondo esterno l'obbligazione contratta inoltre ne visualizzava i caratteri di indissolubilità e possesso in quanto creava una potestà reciproca tra i due contraenti e ne prefigurava appunto con l'anello la consumazione stabilendo di fatto quindi un dominio del marito veneziano sulla sua sposa marittima e ovviamente questo rapporto diciamo consensuale e contrattuale che si stabiliva tra Venezia e il mare che tra l'altro mare in veneziano come dire è un sostantivo neutro che può reggere sia il mar che la mar ecco questo rapporto si estendeva poi su tutte le genti che in qualche modo incidevano su quello stesso mare quindi era un rapporto che poi diventava partecipativo anche delle genti che sul mare appunto vivevano e stavano proprio quindi in questo possesso e in quella conoscenza reciproca i presupposti del dominio esercitato da Venezia sul mare che ritualmente appunto all'inizio di ogni estate ribadiva la sua vocazione di supremazia al mondo intero e la sua legittima e lecita e ha consentita egemonia sulle terre e sulle rotte commerciali e qui vedete appunto la carta del io ho messo impero marittimo me ne scusa impropriamente appunto di Venezia nel secolo nel quindicesimo secolo comunque appunto questa egemonia estesa a tutto l'Adriatico ma fin alle sue plaghe più orientali quindi sino al Levante Mediterraneo ecco nella nell'attesa però di imbarcarsi per la Terra Santa il pellegrino era coinvolto in un intenso viaggio di iniziazione ai culti civici lagunari e investito appunto della martellante propaganda elaborata dallo Stato Stato Veneziano per legittimare la sua funzione e destino di egemonia marittima e di grandezza commerciale il cui culmine appunto era l'assenza si trattava di un processo abilmente orchestrato dalla città con l'obiettivo di avvalorare e divulgare la propria immagine di potenza in cui il pellegrino era condotto attraverso un sapiente percorso di introduzione alle meraviglie urbane e di rivelazione dei suoi miti e leggende ecco ovvio tra le eccellenze della città non poteva mancare oltre alla visita a Palazzo Ducale non poteva mancare l'arsenale oggetto da sempre di grande ammirazione inevitabile quindi che una tappa obbligata di questo grand tour lagunare fosse rappresentato appunto dalla visita rituale all'arsenale agli occhi delle stranieri l'arsenale rappresentava il nervo e il cuore di tutta la canteristica veneziana e una delle strutture logistiche fondamentali dello stato lagunare tanto da essere celebrato nel 1437 continuo a citare appunto Perotafur come la maggior atarazzana quindi come il migliore arsenale che lui avesse mai visto al mondo o che si abbia nel mondo pur scontando una certa ripetitività tipiche di scritture di per sé vischiose che spesso desumevano notizie e racconti dalle memorie di pellegrini già in circolazione e poi le riferivano in maniera diciamo molto meccanica senza grandi variazioni rispetto alle opere visionate questi diari però ci forniscono descrizioni dell'arsenale che sono spesso cariche di pathos e di meraviglia e questa che vedete è la famosissima appunto pianta di venezia di Jacopo de Barbari con il dettaglio sull'arsenale nel 1500 per esempio un anonimo chierico parigino in visita alla struttura nel giugno del 1480 davanti alla imponenza degli impianti alla loro efficienza e all'abbondanza delle artiglierie li aveva descritti estasiato come appunto una delle cose più meravigliose che ci siano in tutta la regione del mondo gli aveva fatto ecco con lo stesso rapito stupore nell'estate del 1492 Piero Casola che aveva definito l'arsenale come cosa quasi incredibile a chi non l'ha veduta ovviamente adesso potrei sbagliare l'accento è Casola ma scusatemi io li sbaglio tutti gli accenti quindi sicuramente sarà Casola molti pellegrini si atterdavano inoltre in descrizioni spesso minuziose e dettagliate dell'intero complesso per esempio Antonio da Crema nel 1486 era rimasto stupefatto dalle dimensioni dello stabilimento e dalla sua struttura composita fatta di un vecchio un nuovo arsenale e poi una darsena nuovissima il tutto a formare e qui appunto cito di grandezza quanto buon castello de forte mura circondate e ben munite dei navigli e di tutto quello si aspetta a guerra navale al punto che longo sarebbe descrivere quanto qui dentro si vede lavorare e di lavorato per tal effetto addirittura in alcuni casi il grado di dettaglio si spingeva al punto di riferire dati numeri e stime molto precisi dell'attività dell'arsenale e dei suoi costi ecco facile davanti a tanta magnificenza e a uno spettacolo così ben orchestrato e poi così abilmente raccontato suscitare nei pellegrini in visita alla struttura esclamazioni di meraviglia e di rapito stupore come per esempio aveva fatto Bernard von Bredenbach nell'estate del 1483 il quale dopo aver celebrato la potenza dei veneziani capaci ovviamente tutta l'iperbole che usa questo appunto pellegrino capaci di far uscire dal loro arsenale 600 navi armate nello spazio di soli due giorni e di allestire nel breve spazio di un'ora un esercito di 200.000 uomini armati di tutto punto e che alla fine esclama o flotta straordinaria e terribile per i nemici se a renderla illustre basta il solo nome veneziano e la vista dei loro vessilli questa è una veduta molto più tarda invece dell'arsenale appunto dal canaretto non era stato poi da meno appunto Pietro Casola che nel maggio 1492 alla vista di questa grande fabbrica cinta da mura come se fosse una fortezza aveva espresso anche lui tutta la sua meraviglia davanti alla pluralità e alla grandezza dei suoi ambienti allo sfoggio di tante sale lunghe con tanto ordine pieno di munizione per armare garee e navi al succedersi di diverse darsene adibite a ricovero delle garee e dei svariati cantieri per la fabbricazione di quelle nuove alla gran turba dei magistri e dei lavoratori che non fanno altro che fabbricare garee ovvero altri navidi di ogni mano al formicolare industrioso delle maestranze impiegate in gran coppia nella produzione di armi alla destrezza della dozzina di uomini addetti nella fucina alla realizzazione delle ancore e di ogni altra generazione di ferramento si faccia al bisogno dei galee e dei navi all'istacabile lavorio della cinquantina di donne che in una grande sala non fanno altro che cosire avere al laboratorio riservato alla fabbricazione di tutte corde si adoperano per mare in galea che era ubicato appena fuori dell'arsenale su di un lato appunto delle sue mura così vasto che lui finisce termina dicendo appena i miei occhi potevano vedere dall'un capo all'altro ecco tutto questo per arrivare poi a quest'ultima diciamo quest'ultima riflessione che era giusto lo stupore che Venezia si aspettava di provocare con la visita dello stabilimento per manifestare al mondo la propria grandezza e svelarne la sua congenita vocazione di dominio e preminenza sul mare e sui suoi commerci tocco l'ultimo punto cioè altra tappa fondamentale di questo viaggio fortemente ritualizzato di iniziazione dei pellegrini alla città di svelamento delle sue meraviglie e di ostentazione del ruolo di grande potenza esercitato da Venezia sul mare era rappresentato appunto dal tour sacro alla moltitudine di chiese e monasteri disseminati in laguna e alle loro preziose reliquie in larga misura però appunto queste reliquie di provenienza marittima e orientale per gran parte infatti il patrimonio sacro di cui si era provvista la città l'aveva appunto portato anch'esso in dotazione il mare a partire dalla reliquia più preziosa cioè il corpo santo dell'evangelista Marco trafugato come sappiamo nell'828 ad Alessandria anch'esso dunque parlava a suo modo del legame congenito e ancestrale di Venezia con il mare ne rifletteva i rapporti di dominio e ne divulgava ricordi miti e leggendi scusate e leggende per i pellegrini questa visita devozionale a questo patrimonio rappresentava una sorta di anticipazione del viaggio in terra santa ma anche il necessario viatico al buon esito della traversata stante appunto il suo valore propiziatorio e benaugurante per Venezia però era l'ennesima occasione per ostentare al mondo la propria dimensione marittima per raccontare il suo rapporto privilegiato con il mare e per diffondere in ogni angolo della terra le proprie legittime non fosse altro appunto perché benedette da Dio e dai suoi santi ambizioni di dominio su quell'ambiente acqueo in cui era assorta e su cui aveva costruito nel tempo la sua potenza e le sue fortune ecco non c'è diario che non contenga in poche righe o in intere pagine il catalogo delle reliquie sacre conservate negli istituti ecclesiastici veneziani e non si soffermi sulla loro descrizione di norma introdotti da manifestazioni appunto di giubilo per il gran numero di chiese e la sovrabbondanza di resti sacri presenti in città come in nessun altro luogo al mondo ovvio la tappa fondamentale di questo itinerario sacro ma insieme propagandistico era la visita alla basilica di San Marco dove erano gelosamente conservate le spoglie del santo patrono divenute nel tempo la sublimazione qui sto citando proprio un passo di tenenti quel saggio il senso del mare che è stato rievocato più volte stamattina come sublimazione visiva della repubblica e il sigillo del suo potere oltre che la proiezione più immediata della sua innata vocazione di dominio marittimo e commerciale e questa è sempre da questo diario di viaggi la rappresentazione appunto della basilica di San Marco ecco davanti al fulgore e alla magnificenza della basilica e del suo tesoro sacro i pellegrini rimanevano estasiati sino a perdere la parola però fortunatamente poi non la capacità di descrivere le bellezze in pagine spesso di grande finezza e minuzia descrittiva Pietro Casola nel maggio del 1492 non solo aveva asserito incantato trattarsi di una delle più belle chiese dei cristiani per la grandezza sua ma aveva anche evidenziato come essa fosse dotata di un tesoro di reliquie incommensurabile per valore e dimensioni tanto da non poterlo estimare a me pare sì infinito qualche decennio prima siamo nel 1437 siamo sempre con Perotafur Perotafur aveva dovuto semplicemente ammettere di trovarsi di fronte ad un tesoro sacro così ricco e prezioso che io non vi masse cioè che lui appunto non aveva mai visto e questa è come dire è una rappresentazione della basilica del tutto contemporanea perché Gentile Bellini nella processione della vera croce in particolare è del 1496 la testimonianza di Pietro Casola è del 1492 altro esempio il fiorentino Alessandro di Filippo Rinuccini nel giugno 1477 aveva elencato con lo stesso stupore i pezzi più preziosi che costituivano il Tesauros Marciano a partire dal corpo del Santo Evangelista ma poi la famosissima Pala di San Marco quella che vedete appunto qui un pagliotto in oro argento smalti e pietre preziose di grandissimo valore di fabbricazione bizantina ma poi lui dice anche il libro del Sacro Evangelio scripto da mano propria di Santo Marco Evangelista e diverse altre belle reliquie molte delle quali giunte a Venezia appunto direttamente da Costantinopoli ecco è superfluo appare superfluo aggiungere come anche il culto di San Marco che è un altro nucleo centrale della mitografia e dei cerimoniali civici veneziani fosse però intrinsecamente legato al mare non solo perché appunto il corpo santo dell'Evangelista era giunto dal mare trafugato nell'828 ad Alessandria da mercanti veneziani impegnati nelle piazze commerciali del Levante Mediterraneo ma anche perché il culto marciano e la simbologia ad essa collegata erano stati poi da subito utilizzati per rivendicare l'autonomia della città e il suo destino di egemonia marittima anzi probabilmente come dire tutta la vicenda era funzionale a questa lettura poi ideologica di fatto la supremazia sui mari conquistata in specie dopo la stagione crociatistica era già stata in qualche modo profetizzata dallo stesso evangelista il quale appunto secondo la leggenda nel momento di disegnare la città quale luogo del suo riposo eterno ne aveva predetto il destino di grande potenza marittima preannunciando al mondo intero che la sua gloria si sarebbe espansa se nelle plaghe più remote toccate dal mare e quindi non soltanto sull'adriatico ma anche su tutta l'area mediterranea da allora e chiudo l'emblema di San Marco era diventato quindi il vessillo adesso potremmo chiamarlo il brand o marca aziendale della Venezia trionfante sui mari e il culto marciano scusate della Venezia trionfante sui mari e questo culto marciano era stato anch'esso asservito alle ambizioni di dominio marittimo e di supremazia commerciale della città lagunare e quindi non a caso finisco con questo leone alato di San Marco di Vittore Carpaccio del 1516 grazie 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 percorsi diversi questa mattina per entrare comunque nel pieno di un ragionamento che ripeto è un fondo abbastanza innovativo rispetto a quanto si poteva dire potevamo dire forse 15-20 anni fa se non sbaglio mi permetterei prima di chiedere se ci sono come penso come credo domande da parte del pubblico vi permetto di fare una piccola postilla a quella pala d'oro perché nella pala d'oro troviamo la prima rappresentazione della forchetta che è un'invenzione orientale che in occidente non si conosce e che precede di quasi un secolo e mezzo l'uso diffuso della forchetta che era una cosa talmente stramba e talmente orientale che c'è quella testimonianza non mi ricordo chi ne fosse l'autore forse ti viene in mente un francescano austerissimo il quale spiegava sì precentesco a qualcuno poi verrà in mente il quale per mostrare i limiti di Venezia e di una certa come dire disponibilità a tutto alla mollezza eccetera ricordava la storia della dogaressa bizantina sposata la quale così dolcezza debolezza orientalità era tale che addirittura manchava il cibo portandolo alla bocca con forchetta tant'è vero grazie Pier Damiani grazie quindi non era un francescano anche sbagliato grazie 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 tre volte pensavo sarebbe bene a me non veniva in mente erano due mi pare le punte della forchetta per cui Pier Damiani con tutta la sua austerità non tanto lontano poi dalla realtà veneziana Pier Damiani spiegava che quella mollezza era stata poi finalmente punita dalla divinità e questa così raffinata dogaressa orientale che per fare il bagno usava l'acqua raccolta dalla rugiada con petali di rosa era stata colpita da una malattia talmente orribile che nessuno era più in condizione nemmeno di entrare in camera per curarla se non una serva che doveva entrare però difendendosi con profumi questo ci dice quale fosse questa minima testimonianza ci dice quale fosse poi il distacco tra due civiltà che erano con termini che si incontravano che si incontravano ogni giorno ma chiedo se ci sono domande proposte interessi essenze vedo i leoni e quando vedo i leoni penso a qualcuno che ha studiato tutti i leoni e può dirci qualcosa forse sul ruolo che il simbolo marciano ha nelle aree diciamo dell'Oriente ma chiedo prima se ci sono domande se ci sono richieste curiosità se c'è qualcosa da chiedere non vedo sì grazie Francesco non vedo dovrebbe esserci un microfono ma non vedo chi lo gestisce eccolo qua grazie signorina professor Valerani sì volevo solo un breve quesito a Oliver Schmidt a proposito di Cursola come menzionato l'importanza anche in una piccola isola potrebbe esserci un approccio più continentale o microcontinentale che marittimo e hai menzionato Blato e volevo chiederti avendo osservato anche io viaggiando per l'interno di Cursola e ho notato degli edifici della nobiltà di Cursola Porto che costruivano queste sedi non tanto per interesse economico quanto per un po' lo stesso approccio che avevano i nostri patrizi di città verso la terraferma Veneta ovvero una edilizia ricreativa potremmo dire un po' assimilabile al sistema delle ville venete ci risulta questa presenza cioè che ci fosse anche un atteggiamento del patrizio Cursolino rispetto al contadino quindi un micro una riduzione quasi proprio spaziale dello stesso meccanismo del veneziano che va in terraferma il Cursolino Portuale che va nell'entroterra e che trova questa sorta di conflitto con i contadini anche se di questi patrizi so che investivano nel vino per esempio più che nella pastorizia più nel vino la cultura di una produzione destinata alla loro tavola ma forse all'esportazione ecco questa è la mia domanda Questa è un'osservazione molto importante io soprattutto ho studiato la documentazione quattrocentesca e si vede molto chiara già in questa epoca che la presenza dei patrizi nello spazio rurale era molto importante non soltanto nell'edilizia ma l'interesse principale era uno economico perché proprio questi patrizi anche investivano nello spazio rurale che era in una epoca di piena di crescita e questi investimenti e questi interessi economici ma anche sociali dei patrizi nello spazio rurale naturalmente avevano anche un certo impatto su questi conflitti tradizionali tra città-porto da un lato dall'altro accanto anche di questo spazio rurale perché questi patrizi che erano in principio residenti della città-porto ma nello stesso tempo avevano anche perseguivano anche investimenti progetti economici nello spazio rurale si trovavano una specie di trappola tra i due partiti e talvolta erano proprio anche il fattore che cercava di equilibrare un po' queste tensioni ma comunque è questo che è importante che Plato aveva era il peso demografico di Plato era sempre molto più importante molto più grande di questa della città-porto e dobbiamo tenere conto anche un po' della geografia perché il centro di quest'isola si trova all'estremità orientale dell'isola invece questo grande villaggio di Plato dotato anche di simboli di urbanità come questa locia e anche lei ha evocato anche l'edilizia anche l'aspetto esteriore di queste case si vede che dal punto di vista tipologico se paragoniamo se cerchiamo di fare una tipologia di queste isole purtroppo è un po' un caso un po' particolare c'è il centro ma il centro periferico che è periferico su vari aspetti e proprio questo spiega anche questo peso e io credo che è molto più accentuato anche nella prima epoca moderna che nel 400 ma questo davvero rimane tutta un'epoca da studiare perché a partire del 400 la documentazione è abbastanza consistente ma esplode nel 500 e finora perché il materiale sia così ricco questo materiale aspetta ancora i ricercatori credo che la mediazione fra le due culture quella dei contadini locali e quella dei patrizi cioè diciamo dei nobili che guardavano a modelli occidentali sulla Venezia sostanzialmente fosse e qua scopro l'acqua calda fosse delegata al rettore che aveva questa capacità di mediazione sto pensando proprio a proposito di Curzola o Lesina non mi ricordo bene forse era a Lesina ma lei saprà già queste cose una decina di anni fa diede una tesi non ricordo il nome del laureato su un caso di vampirismo accaduto a Lesina mi pare nel 1754 dove il rettore scrive al senato dicendo guardate che qua ho ficato dentro il parroco e in un paio di locali perché abitanti del posto perché di notte sono andati ed è impressionante la descrizione che fa perché corrisponde esattamente ai filmetti sui vampiri che siamo abituati che avevamo un tempo questi qua sono andati con un punteruolo di nocciolo e una mazza a spaccare il cuore di un morto vivente che andava a infortunare a togliere la quiete agli abitanti del villaggio al che il parroco era connivente perché fornì lui gli attrezzi indicò la sepoltura per cui io a questo punto li ho ficati dentro chiedo l'UMI al Senato il Senato non risponde quindi diciamo così ha preferito perlomeno non c'è stata conservata la documentazione questo per dire che forse Venezia e chiudo era più simile a un Commonwealth che a un impero coloniale proprio per questa capacità di mediazione il rettore fa il suo dovere il rettore fa il suo dovere direttore poteva stare zitto fa il suo dovere informa il Senato dopodiché però il Senato non dà non dà esecuzione all'eventuale delibera e questo forse può spiegare il fatto che secondo me si potrebbe parlare più che di impero coloniale di un Commonwealth di Venezia grazie sono pienamente d'accordo che questo caso di vampirismo era proprio successo a Cursola e c'è anche un po' una piccola cultura di tradizione di commemorazione di questo fatto condivido pienamente quello che dice perché soprattutto a isole come Cursola anche le altre isole dalmate erano caratterizzate di una presenza fisica veneziana molto ridotta su forse 4.000 abitanti della società locale erano forse due o tre veneziani un rettore un cancelliere e forse qualche servitore proprio la presenza fisica molto ridotta ma quello che contava era piuttosto un fenomeno che si potrebbe descrivere metaforicamente come l'ombra di Venezia queste isole erano talmente talmente caratterizzate da queste tensioni interne che avevano bisogno di una specie di potestà e proprio questa era la funzione di Venezia i veneziani hanno riempito un vacuo politico e hanno anche riempito una funzione essenziale per l'isola hanno creato un sistema molto complicato anche di alleanze perché anche nel caso di Cursula grazie a questa documentazione si possono studiare anche costellazioni molto particolari allianze tra patrizi locali con il rettore veneziano locale e contadini con le autorità centrali di Venezia perché si può anche constatare che una Venezia omogenea non esisteva che anche gli interessi di varie famiglie patrizie ma anche una certa tensione tra autorità centrali e rappresentanti locali sul posto veneziani sono da osservare proprio riesce da questo tipo di studi un sistema molto più complesso e proprio perché ho fatto anche riferimento a quello che Ormano Orlando ha pubblicato sull'adonazione un sistema molto complesso di negoziazioni anche di interessi comuni perché non dobbiamo dimenticare anche la dimensione economica io parlavo anche dell'integrazione economica di questa piccola isola in un contesto molto più vasto ma naturalmente c'erano anche interessi di varie famiglie patrizie e sappiamo anche questo è un risultato molto importante degli studi ultimi diciamo 20-25 anni e la combinazione tra carica statale e anche tra ufficio e commercio è un approccio prosopografico naturalmente ci aiuta molto a capire un po' meglio anche i meccanismi che stanno dietro questo sistema di nuovo era un sistema che funzionava soprattutto perché tutti i partecipanti tutti quelli che facevano parte di questo sistema parlavano la stessa lingua non nello stesso linguistico ma nel senso diciamo economico e anche mentale e giuridico soprattutto e questo sistema di diritto comune era davvero la base di tutto questo sistema e che permetteva anche facilmente l'entrata in questo sistema perché forse e questa sarà la mia ultima osservazione a questo proposito il sistema di cui parlavo questo sistema giuridico è il sistema già prima del 1420 naturalmente c'è anche una preistoria veneziana a cursola ma comunque Venezia non ha non ha introdotto non ha inventato questo sistema giuridico e anche questa fiducia molto sviluppata in questo sistema non era l'effetto della presenza veneziana ma Venezia ne ha approfittato molto grazie prego il microfono ah scusate scusate sì volevo intervenire anche io su questo punto da un'altra prospettiva intanto sul problema di diritto veneziano diritto comune ci sono sempre naturalmente come riferimento storico gli studi di Gaetano Cozzi ecco che aveva proprio enfatizzato questo tipo di aspetti ma mi fa piacere che l'ambito della negoziazione di quella che appunto noi nell'ambito delle istituzioni politiche chiamiamo la mediazione la creazione di networks fra il potere centrale i poteri intermedi siano adesso nel dibattito sullo stato d'amaro veneziano perché devo segnalare è stata una stagione per la storia delle istituzioni politiche molto ricca già fino agli anni 80 dagli studi di William Byke sullo stato solutista francese consiglierei di riprendere quella discussione che era stata molto molto ricca fra gli anni 80 e 90 quando appunto si era anche deciso che il termine assolutismo non aveva più senso ecco in particolar modo ricordo la storia ad Europa in Audi in cui c'erano i due famosi saggi uno di Monchak dello studioso dello stato solutista e poi invece un articolo molto innovativo di Angelo Torre che faceva parte di questo gruppo italiano Giovanni Levi Torre Baggio e la Microstoria che rilanciavano invece la percezione dello stato vista dalla periferia e non più dal centro ecco c'è lì un enorme dibattito che forse conviene per voi storici dello stato da Marche avete adesso questo nuovo interesse per il concetto di network mediazione negoziazione cioè di come il potere si impone o non si impone a livello periferico in modo molto diverso da come si pensava tradizionalmente c'è anche un volume di quella grossa serie dedicati dall'Unione Europea mi sembra allo stato moderno c'è un volume proprio dedicato alla mediazione consiglierei è stato un dibattito e poi ricordo un vecchio non so Giuseppe se ricordi tu un vecchio dibattito fra Ventura e Cozzi proprio sulla terraferma su come come Venezia si era imposta alla terraferma già si discutere di questi di questi temi ecco poi Claudio Povole e altri anche lo studio terraferma ha seguito molto queste direzioni stato centrale non stato centrale intervento a livello locale non intervento a livello locale eccetera c'è una grossa Giorgio Chitolini per gli studi italiani c'è una grossissima tradizione dietro quindi consiglierei magari di dargli un'occhiata per gli aspetti metodologici grazie qualche anno fa abbiamo organizzato qui all'istituto Veneto proprio un convenio su società comunità nello stato veneziano e abbiamo discusso questi concetti grazie intervendo anch'io ma per volevo semplicemente ribadire questa cosa cioè questi tutta questa letteratura che tu hai citato è stata la base delle riflessioni iniziali nostre soprattutto questa prospettiva del centro visto dalla periferia Raggi che hai citato eccetera eccetera e la microstoria eccetera è stato proprio il punto di partenza delle nostre riflessioni quindi grazie ma ecco sì l'avevamo sì no 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 ma giustamente perché un po' è la base di partenza grazie Matteo sì una domanda che spero non appaia troppo ingenua o disinformata visto che la materia non è tra quelle che io frequento abitualmente per cui allora va bene diciamo la la denominazione di Venezia in latino mi insegnavano fin dalla scuola media è quella plurale Venezia veneziano va bene questa forma qua nelle fonti per quel poco che io so nelle fonti storiografiche questa forma latina plurale si afferma in maniera significativa a partire dal quattordicesimo secolo forse anche un po' prima bene e in parallelo abbiamo invece le fonti cartografiche dove la forma non è mai questa plurale è sempre la forma singolare Venezia e Venezia scritto nelle varie maniere allora mi chiedevo scusate se appunto può apparire in genere una domanda se questa questa questo dettaglio nominalistico va bene non sia lo specchio di una situazione di questo genere laddove c'è una determinazione puramente spaziale come nella cartografia Venezia è identificata come luogo determinato nello spazio e nella regione laddove invece si usa la forma plurale c'è una qualche trascinamento di una di una nozione di una ideologia alla quale faceva riferimento prima in particolare il professor Ivetic di questa Venezia che si trasmette attraverso il mare a una serie di luoghi che in qualche modo replicano lo spirito originale della città e che questa denominazione plurale che continua nel tempo molto a lungo sia quando si dice Venezia non si dice solo la città ma si dice l'insieme non so se la domanda ha senso oppure no beh è una suggestione è una suggestione sicuramente molto pertinente anzi non lo so dal punto di vista un po' terminologico nel senso che questo nome plurale Venezia Veneziarum però è un po' tipico anche di altre città non è un'esclusiva di Venezia Siena Pisa Pisa Pisarum cioè ci sono altre realtà che hanno quindi non so come coniugare queste però questa lettura che lei fa mi pare del tutto pertinente è anche molto suggestiva però così è una risposta mia personale non nuova anche sì nuova ma è suggestiva sicuramente scusa il microfono scusa è soltanto un'interferenza di ambasciatori veneti anziché direi di ambasciatori veneziani ci sono altre domande prego Rizzi al professor Schmidt ritornerei su quel concetto di insularità che lei ha ben spiegato e soprattutto mi ha colpito come è riuscito a declinarlo un'insularità che non è univoca ma è molteplice e soprattutto anche questa prospettiva che l'ignoto è la terraferma non l'insularità non il mare mi chiedo una domanda banalissima forse in parte ha già risposto parlando del diritto c'è un sentire comune c'è un elemento che poi connettivo di tutta questa molteplicità sia da parte veneziana quindi della dominante sia poi da parte delle varie comunità che vanno a comporre questa complessità io direi il movimento di persone e di merci perché se paragoniamo se io ho cercato di offrirle una specie di tipologia è ovvio che per motivi politici le tradizioni politiche sono molto diverse abbiamo anche spazi confessionali spazi linguistici molto molto diversi ma quello che collega davvero è quello che offre anche Venezia a questo sistema integrale insulare che comincia qui nella metropoli e va fino a Cipro è davvero uno spazio commerciale perché naturalmente fino a un certo punto è anche uno spazio di diritto ma siccome anche le tradizioni giuridiche era tanto diverse nello spazio post-pizzantino nello spazio atriatico non possiamo parlare di uno spazio di diritto comune ma comunque quello che era comune era una diciamo una sicurezza garantita dello Stato cioè il dominio del mare la protezione anche del commercio ma soprattutto questa anche offerta diciamo all'indirizzo di questa gente che di solito è caratterizzata come sudditi di partecipare a questo convegno questo aumenta la mobilità anche credo che è stato nel primo nostro convegno comune nel 2006 abbiamo discusso anche su una mobilità che non era centrata su Venezia perché di solito se parliamo di migrazioni mettiamo al centro sempre la metropoli naturalmente che aveva una forza attrattiva molto molto sviluppata ma c'era anche una migrazione al di là di Venezia per esempio tra la Dalmazia e la Creta o Corfu cioè anche questi movimenti questo tipo di circolazione anche non soltanto di persone di merci ma anche di idee ha creato questo spazio e forse perché noi parliamo siamo abituati a percepire Venezia sempre come forza economica e politica militare marittima ma quello che dobbiamo anche studiare è la cultura soprattutto la letteratura e la storiografia e sappiamo e questo è stato studiato molto bene che per secoli le elite culturali dello Stato Damar studiavano a Padova naturalmente questo anche ha creato uno spazio culturale comune che si riflette non soltanto nella produzione letteraria in lingua italiana ma anche in lingua croata e creca ma siccome abbiamo pochissimo o almeno nessun specialista che legge tutte le tre lingue questa produzione letteraria viene studiata sempre come parte di una storia di letteratura nazionale che è completamente che è completamente spaliata perché non riflette le realtà culturali che erano pluriculturali plurilinguistiche e io credo che forse studiando la tradizione storiografica possiamo cominciare anche perché è un po' dappertutto su queste isole di tradizione post-bizantina e anche diciamo latina come a Cipro ma anche in Talmazia ci troviamo di fronte a una tradizione culturale comune ma plurilinguale e proprio questo sarebbe anche per l'avenire una possibilità di capire anche un'altra dimensione di questo stazio di commonwealth nient'altro che diciamo una tradizione dell'idea di un mondo condiviso ma un mondo condiviso che era un po' che era anche che dipendeva diciamo di precondizioni politiche anche istituzionali ma anche quelli dobbiamo capire ancora meglio ma io credo che questa sarebbe anche una dimensione molto importante da capire meglio faccio un commento ovviamente in merito all'insularità ti ascoltavo ma questa è credo una chiave inevitabile nella lettura e nell'interpretazione dello Stato da Mar fondamentalmente Venezia cerca le isole e si fonda sulle isole anche ragionando sul Commonwealth abbiamo insomma si è discusso abbiamo deciso il 1204 senza andare prima perché poi prima questi vari rapporti spesso anche litigi scambiati per sovranità ma era la sovranità sull'acqua quindi lì è un po' una confusione tra il 1000 e il 1000 ma dal 1204 abbiamo un quadro abbastanza limpido ora credo che l'insularità è costante nel senso che lo sappiamo i primi domini proprio in Dalmazia del 1204 sono Zara e Ragusa Ragusa non è Ragusa della Repubblica loro molto più tardi compreranno dal re serbo sabbioncello e Ragusa città è poco più non c'è neanche Asta Rea anche Zara Zara un po' di più ha un contato ma sono delle isole anch'esse poi dal 1267 molto dopo ormai cos'è l'Egeo se non un insieme di isole cos'è la Dalmazia che non è ancora Dalmazia-Veneta ma solo dei possessi i nostri possessi di Dalmazia al plurale sono o isole quelle che è elencato l'ultima sarà a veglia dei frangipani appena nel tardo 400 e Cursola sicuramente dall'inizio che ha questa prima fase dal 1204 al 1358 dove vengono gettate le basi ma le ha studiate anche Ermanno e probabilmente c'è da tornare indietro per vedere quanto perché i bizantini sono lì fino al 1180 quindi non sono tanto lontani ecco comunque voglio sottolineare questo aspetto che quando Venezia ricrea e costruisce il suo mondo marittimo lo fa tramite isole e anche nel caso dell'Istria la prima fase 1267 1331 cioè da 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 Capodistria a Pola sono città con un contado ma anche la più grande che è Pola potrebbe essere considerata un'isola dietro ci sono i goriziani sono isole l'altro elemento si vede nell'area adriatica isole sì ma anche comuni quindi città dove dove si ragiona come dici giustamente tu si parla la stessa lingua in senso di diritto e lì credo che sia lungimirante quel saggio di Sestan che lui andava a ritroso fino al decimo secolo perché questo è il punto di cui sottolineavo che bisogna sempre un po' per tornare indietro perché poi c'è un punto Sestan vedeva nel decimo secolo la familiarità un altro allora sono d'accordo con te un'altra cosa che mentre ti ascoltavo io ho studiato di recente l'adriatico come sistema qua c'è i marchi Venezia non solo noi la vediamo sempre la città dominante che punta ovviamente i luoghi sacri sono Alessandria non a caso c'è una traslazione la traslazione segue la rotta ci sarà una comunità veneziana ad Alessandria fino alla fine fino alla fine della Repubblica ma c'è anche il discorso che Venezia conosce bene mi viene in mente quel convegno sulla spedizione dell'anno 1000 mi ha fatto una relazione su un intervento in Puglia e mi ha colpito subito dopo il 1000 1025 1030 mi ha colpito sì ma mi ha colpito questa precisa conoscenza di come fare l'azione militare a 1000 chilometri di distanza quindi vuol dire Venezia conosce il sistema ora per l'adriatico credo che ormai cominciamo a orientarci abbiamo anche una buona base difatti la Puglia è inconcepibile senza la Dalmazia cioè non dà il grano alla Dalmazia altrimenti la Dalmazia dopo tre mesi non mangia pane ora si tratta di mettere in relazione quindi anche anche l'Egeo come sistema marittimo cioè c'è un sistema marittimo in cui Venezia entra non solo come piano politico economico ma come un ente che ha la capacità di spostare flotte e di entrare dentro questo sistema perché fondamentalmente se noi riguardiamo una lunga durata l'adriatico ha un suo scambio interno fatto di complementarietà e Venezia è la garante per dire quando ormai la presenza ottomana c'è il regno di Napoli si chiude con le torri da avvistamento la Dalmazia non ha le torri da avvistamento la Dalmazia è murata e c'è la flotta c'è la squadra e ultima cosa dovremo sviluppare uno sguardo comparativo sul Mediterraneo che solo dalla storia del Mediterraneo che negli ultimi vent'anni è decolata io adesso insegno a Pado la storia del Mediterraneo allora cominciamo a vedere anche la l'eccezionalità la specificità dello stato da mar rispetto all'esperienza storica di Genova che ha un sistema di presenze di colonie mercantili incredibile quello di Genova i genovesi sono dappertutto e poi da ci sono questi studi fantastici di Mario del Treppo sui catalani e il regno d'Aragona e la costituzione più di Abulafia del Treppo veramente nel 400 per cui del Treppo diceva a certo punto in altri interventi anche così che si era formata una comunità economica europea nel Mediterraneo occidentale con centro Barcellona e il regno d'Aragona Barcellona che decade nel 500 perché tutto l'interesse si sposta verso Siviglia e l'Atlantico ma tant'è che il 300 e fino al tardo 400 allora lì questi sono credo i veri termini di paragone con lo stato da mar ma lo stato da mar allora esce fuori da logiche nazionali che ne so cosa anche logiche come dire veneziano centriche nel senso della venezianistica come l'abbiamo conosciuta ed è veramente un pezzo di Mediterraneo che ha un'esperienza che ci lascia un'esperienza storica incredibile ecco con questo intervento io chiuderei i lavori della mattina anche perché hai già ipotizzato non due ma tre convegni diversi e quindi non vogliamo essere travolti con i relatori ci troviamo un attimo magari in sala del biliardo di là e ci diamo appuntamento tutti alle due e mezza per la prosecuzione dei lavori sperando che l'acqua alta non ci tenga ancora sotto assedio molte grazie a tutti intanto grazie a tutti grazie a tutti